Benvenuti, benvenuti. Siamo qui anche io per parlare giusenese e tutte le parlate da Liguria. Lo faremo con interventi in italiano, ascolteremo poi anche il suono invece della lingua genovese. Innanzitutto un ringraziamento a Rosa Ronzitti, professoressa di glottologia, che ci accompagnerà, ci modererà o ci solleciterà se servirà in questa nostra discussione. Avete visto l'elenco degli interventi è grande e ampio. Cerchiamo, cercheremo, quando abbiamo pensato questa giornata, di toccare i diversi ambiti nel quale il genovese e le parlate linguri vengono utilizzate oggi. Ovviamente prevalentemente negli usi scritti e quindi negli usi di lettura, nella letteratura propriamente detta, quindi nelle opere letterarie, ma anche nell'informazione. Questa è un'iniziativa, forse la prima iniziativa così in presenza, nella quale riusciamo a dare anche volti, a stringere mani, Ducunseggio, il Consiglio per il Patrimonio Linguistico Ligure, che è attivo sulla rete da un po' di tempo e che dall'estate scorsa si è costituito come associazione e qui abbiamo il Presidente, che è Jean Maillard, al quale poi passerò la parola per un saluto iniziale. L'idea che ci ha portato a realizzare questo incontro è quello appunto di riuscire a condividere come comunità fare un punto della situazione per guardare, certo, al passato, la tradizione millenaria che questa lingua ha, ma soprattutto per proiettarla al futuro. E quindi quali sono i modi, le forme possibili per far sì che il genovese, le lingue regionali abbiano una loro importanza, un loro peso, una loro vivacità nei mezzi di informazione, nel continuare a fare letteratura e quindi anche auspicabilmente a parlarle, a viverle nella quotidianità. Tutto questo lo declineremo, vedremo appunto attraverso i differenti interventi, dalle traduzioni all'opera letteraria, all'informazione, alla carta, al web, tante cose in ballo. Passo un istante la parola a Jean Maillard per un saluto istituzionale. In realtà la faremo il meno istituzionale possibile questa giornata, siamo qua per discutere e discutere insieme. E poi appunto la parola alla professoressa Ronzitti per accompagnarci in questo primo avvio. Grazie mille Anselmo, un saluto a tutti, è bello vedere tante persone in sala, anche un saluto a chi ci segue via internet, so che abbiamo un paio di persone forse anche dal Nord America che si sono già svegliate e che hanno cominciato a seguirci. Allora abbiamo una giornata molto piena, con tante presentazioni, ecco quindi sentirete di vari progetti portati avanti dall'associazione e da amici dell'associazione. Proporrei forse di cominciare abbastanza brevemente. Passo forse la parola alla professoressa Lanzitti e poi... Buongiorno a tutti, grazie. Innanzitutto grazie per l'invito dai membri del conseggio. L'Università di Genova ha avuto una grande tradizione di studi dialettologici. Io sono allieva di Giulia Petracco Sicardi, massima dialettologa ligure, scomparsa nel 2015. Dopodiché la dialettologia è entrata un po' in un cono d'ombra, però speriamo che esca da questo cono d'ombra. Insomma, si preannunciano anche novità positive. Inoltre custodiamo la massima biblioteca di studi liguri esistente, creata appunto da Emidio De Felice e Giulia Petracco Sicardi nel corso dei decenni. Quindi ho accolto volentieri questo invito, essendo profondamente convinta che tutte le forme di cultura e lingua tradizionale debbano sopravvivere, perché la globalizzazione spesso significa una perdita di conoscenze del proprio territorio, della propria lingua e quindi con grande lietezza ho accolto il invito di questi giovani, molti nati negli anni 90, che parlano genovese e tengono viva la fiamma che non si deve estinguere e promuovono una serie di iniziative che continueranno, sono sicura. Quindi ripasso la parola a Jean Maillard, che tra l'altro è un ricercatore nell'intelligenza artificiale, quindi coniuga anche lo studio della dialettologia con i mezzi informatici. Quindi gli ripasso la parola per la sua presentazione. Prego. Grazie mille, allora ancora un saluto a tutti. Il titolo del mio intervento è Una lingua per l'oggi, ma in realtà ci tengo a cominciare qualche anno addietro, in particolare nel quindicesimo secolo con l'introduzione della stampa a caratteri mobili in Europa Questa innovazione ha rappresentato un punto di svolta nella storia delle comunicazioni e in particolare ha anche influito molto sulla diffusione della lingua tedesca. Il ruolo pionieristico che era svolto nel passato dalla stampa di Gutenberg è stato assunto al giorno d'oggi dalle tecnologie moderne. Se pensiamo a tutte le nostre comunicazioni, ma anche ad esempio alla stampa su carta, ci rendiamo conto che spesso e volentieri queste sono mediate da strumenti elettronici e spesso anche avvengono attraverso internet. Ecco, quindi le nuove tecnologie sono diventate al giorno d'oggi il motore di disseminazione e di innovazione linguistica. Aspettiamo che tornino le slide, eccoci. Quindi tecnologia che aiuta a diffondere la lingua, ma tecnologia che può anche rappresentare un ostacolo, soprattutto per le lingue minoritarie come può essere il genovese. Vedete qua a destra un esempio preso dal mio telefono. Ecco, ieri stavo cercando di digitare una frase in genovese e ad ogni passo il correttore ortografico mi mette i bastoni fra le ruote e mi impedisce sostanzialmente di scrivere in genovese. Quindi queste lacune tecnologiche possono rappresentare un ostacolo per le lingue minoritarie. E come associazione noi ci stiamo impegnando a portare avanti una serie di progetti tecnologici che sono appunto volti a colmare queste lacune. Ne presenterò adesso alcuni, ma prima ancora di fare questo ci tengo a parlare di un paio di ostacoli che abbiamo incontrato in questi nostri lavori. Ostacoli che purtroppo spesso rischiano di dissuadere i giovani dal parlare il genovese o le altre parlate e anche dall'apprenderlo. Il primo ostacolo è purtroppo una visione da parte di alcuni cultori della lingua eccessivamente personalistica. Mi viene in mente una decina di anni fa un convegno simile a questo ma tenuto in Inghilterra. Il relatore, un americano, si girò a un certo punto verso il moderatore londinese per chiedere un bicchiere d'acqua e lo chiese questo naturalmente col suo accento americano chiedendo glass of water. Ecco, il moderatore londinese doc non capisce, rimane un po' spiazzato e gli chiede di ripetere una, due, tre volte. Finalmente la terza capisce, gli si illuminano gli occhi e dice Ah, yes, a glass of water. Ecco, quindi water, water. Tutte le vocali sono diverse. Due consonanti pure sono andate a farsi benedire. Eppure non c'è nessun problema. Sì, la cosa ci aveva fatto divertire al tempo ma mai e poi mai nessuno si sognerebbe di dire all'uno o all'altro che una versione è meno corretta dell'altra. Purtroppo però in genovese invece a volte bastano differenze molto più piccole per scatenare delle risse. Ho messo qui l'esempio di due piccole varianti morfologiche viaggio e vieggio. La prima sicuramente prevalente a Genova più simile all'italiano. La seconda più antica che resiste ancora in alcune zone è in letteratura. Ecco, se voi usate una di queste due varianti in presenza di certi individui apriti cielo. Manca purtroppo in molti casi la sensibilità ma oserei dire anche l'umiltà di capire che la lingua non è una nostra proprietà personale. La lingua si estende anche al di fuori della nostra famiglia, della nostra cerchia di amici. Ci possono essere forme lessicali che noi magari non abbiamo mai sentito in vita ma non per questo non sono legittime. Ecco, la presenza di questi che oserei chiamare bacchettoni purtroppo può avere un effetto molto nocivo sulla comunità linguistica. Innanzitutto perché si scoraggia chi impara, perché non vogliono farsi riprendere, ma forse ancora più importante è perché si scoraggia chi magari parla una variante, un dialetto, che è considerato da questi bacchettoni meno puro. E vedremo poi in seguito come quest'idea di purezza in realtà sia assolutamente invalida dal punto di vista linguistico. O addirittura magari usano forme lessicali, varianti, che il bacchettone di turno non conosce e quindi non approva. Ecco, quindi questa idea del genovese è quello che dico io. È estremamente nociva purtroppo. Per fortuna esiste una figura professionale che è quella del linguista che si occupa di studiare la lingua in maniera più oggettiva, con rigore scientifico. Il contributo dei linguisti è fondamentale per tutti i nostri lavori fatti come associazione e ci tengo in particolare a ricordare prima fra tutti il compianto Fiorenzo Toso. Il secondo ostacolo è legato alla perdita di prestigio che interessa il genovese da oltre un secolo. Ecco, in Liguria abbiamo la fortuna di avere un ricchissimo repertorio di letteratura umoristica, di teatro umoristico. Il problema però è che ci siamo dimenticati di tutto il resto. Quindi si parla genovese magari per dire, per imprecare in maniera un po' più colorita, magari ci prendiamo anche la maglietta con scritto Belin che strappa sempre qualche risata. si parla in genovese del pesto, della focaccia, se va bene ci ricordiamo una commedia di Govi però è raro che ci spingiamo oltre. Quindi quando si deve passare a parlare di argomenti ritenuti più alti, più importanti, si passa spesso all'italiano e il genovese rimane confinato a questi ambiti. Con il tempo alla lunga questo crea una percezione negativa, degli stereotipi negativi nei confronti del genovese che viene visto soprattutto dai giovani come una lingua secondaria assoggettata all'italiano, meno importante. E questo io l'ho visto, l'ho sentito proprio sulla mia pelle quando qualche anno fa feci vedere ad un amico trentenne, genovese, una pagina di letteratura genovese molto bella e lui mi rispose le cose scritte in genovese scusami ma non riesco proprio a prenderle sul serio mi scappa da ridere. Ecco per me questo fu una pugnalata perché rappresenta perfettamente l'atteggiamento, la percezione della lingua nei giovani e basta andare a prendere un qualsiasi manuale sulle lingue a rischio di estinzione per vedere che una percezione del genere da parte dei giovani è una condanna a morte per una lingua è una bomba ad orologeria che va assolutamente disinnescata. Come associazione ci impegniamo a sfatare questi stereotipi negativi portando avanti i progetti di valorizzazione linguistica in modo serio e scientifico. Il primo che vorrei descrivere è appunto il nostro dizionario elettronico che trovate sul nostro sito è aperto a tutti è un progetto che va avanti già da qualche anno ha un certo numero di caratteristiche che lo contraddistinguono citerei sicuramente il fatto che per ogni entrata ci impegniamo a distinguere con precisione i vari significati le varie accezioni delle parole quindi qua abbiamo l'esempio di su che può essere tradotto come sappiamo in 5 o 6 modi diversi in genovese però non è che siano intercambiabili bisogna capire in ogni caso cos'è una preposizione un avverbio quindi è fondamentale fornire la differenziazione tra le varie accezioni e anche ampi esempi d'uso spesso a volentieri questo nei glossari che si trovano su internet italiano-genovese non avviene quindi ci vengono sbattute in faccia queste 5 o 6 questi 5 o 6 traducenti e poi ci ritroviamo a vedere traduzioni come non so monta chù a barca che appunto avvengono perché non si chiarisce bene la differenza tra i vari significati altra caratteristica è la presenza sostanzialmente per ogni entrata di tavole di declinazione quindi mostrando agli utenti come formare nei vari casi plurali femminili di sostantivi e aggettivi e per i verbi forse ancora più importante abbiamo creato un sistema di coniugazione automatica che quindi non mostra soltanto la forma dell'infinito che si trova solitamente nei dizionari ma ci venisse il dubbio di come si forma il congiuntivo imperfetto ecco per tutti i verbi possiamo andare a vederlo naturalmente creando un dizionario sorge la questione della grafia del sistema grafico ma questo è un problema che sorge in realtà per tutti i nostri progetti ci è stato chiesto di recente per email come mai nei nostri progetti non usiamo ad esempio gli accenti per mostrare in alcuni casi l'apertura la chiusura delle vocali ecco qui ad esempio c'è l'esempio di cani o ken che dir si voglia la grafia che adottiamo noi è la grafia tradizionale quindi quella che era stata descritta da fiorenzo toso e normalizzata poi in seguito ulteriormente dal gruppo di lavoro del quotidiano al secolo decimo nono la grafia tradizionale aiuta in casi come ken e ken ma anche in casi molto più complessi come miagia che ha molte molte varianti perché in un certo senso astrae questi problemi e ci fornisce una forma singola che diciamo è emersa organicamente e non abbiamo il bisogno di andare a riflettere ogni minima e ininfluente variazione di pronuncia nello scritto ecco quindi questa scelta della grafia tradizionale in realtà è forse dovuta a tre motivi principali innanzitutto la vediamo come una scelta inclusiva la comunità linguistica conta già di un numero abbastanza esiguo di parlanti se dovessimo scegliere come mostrare gli accenti per ogni singola parola rischieremo di creare campanilismi divisioni che sarebbero nocive per una comunità linguistica che come abbiamo detto è già abbastanza piccola in secondo luogo è una scelta abbastanza ergonomica perché è sicuramente più facile da scrivere non dovendo marcare un accento su ogni parola ma è anche più facile da leggere non avendo diciamo questo ronzio di segni grafici del resto non a caso tutte le lingue scelgono di utilizzare i segni grafici con moderazione ma forse la ragione più importante quella centrale è la praticità perché se dovessimo scegliere che accenti marcare ogni volta dovremmo scegliere che forme dare come valide e quali forme dare come invalide e questo di nuovo crea divisioni ma soprattutto non si tratterebbe di una singola grafia ma si tratterebbe di tutto un sistema di grafie incompatibili fra di loro e quindi cosa facciamo cioè che forme diamo per valide in un in un correttore questa idea come dicevamo di varianti della lingua di dialetti più puri degli altri in realtà è del tutto invalida dal punto di vista linguistico e va bene potremmo anche dire a Genova siamo più belli degli altri quindi diamo per buone le varianti genovesi ma il fatto che anche a Genova ci sono tantissime variazioni tantissime oscillazioni di pronuncia quindi saremo da capo ecco per assurdo se volessimo fare una cosa del genere anche non so torniamo all'esempio dell'acqua in inglese water 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 se volessimo segnare di volta in volta le minime variazioni di pronuncia sarebbe impossibile avere correttori dizionari ma poi anche non so per i quotidiani cosa dovremmo fare stamparne una variante per ogni zona ma anche senza bisogno di andare così lontani casa la parola casa che potrebbe essere anche casa o hasa casa ecco quindi in realtà però naturalmente insegnare la pronuncia è importante e quindi noi di volta in volta nel dizionario forniamo la pronuncia stiamo anche aggiungendo delle registrazioni audio al momento riflettono la parlata del genovese cittadino ma contiamo in seguito di poter aggiungere anche varianti di altre zone contenuti multimediali ne ho già parlato si ritrovano anche ad esempio nelle nostre schede di lessico e di grammatica vedete a sinistra un esempio di una tabella che mostra i numeri ordinali in genovese primo secondo eccetera schiacciando il pulsante rosso a fianco ogni parola si sente una registrazione ma anche a destra vedete un esempio dell'antologia curata da Alessandro Guasoni che potete vedere anche a fondo sala nell'installazione virtuale che contiene ogni tanto anche le registrazioni degli autori qua vediamo una poesia di Bruna Pedemonte e c'è appunto la lettura dell'autrice giusto due parole brevissime sul futuro altri progetti che stiamo portando avanti un traduttore automatico si tratta di un progetto estremamente all'avanguardia molto complesso e molto lungo ma per fortuna contiamo nell'associazione di un'ampia gamma di competenze che ci aiutano a portare avanti anche progetti di questo calibro un sintetizzatore vocale che è un sistema che prende il testo e lo legge pensiamo ad esempio agli annunci automatici dei treni in arrivo nelle stazioni ecco questo si può avere anche in genovese un correttore ortografico come già visto prima importantissimo e infine tutta una serie di progetti che combinano l'intelligenza artificiale e la didattica per rendere l'apprendimento della lingua più divertente e più semplice ecco direi che mi fermo qua ci saranno un sacco di altri bellissimi progetti che verranno descritti dai prossimi relatori quindi vi ringrazio ancora e lascio la parola a loro allora grazie a Jeanne che ci ha illustrato con vivacità questo progetto e adesso sentiamo Stefano Lusito che è anche lui un giovane degli anni 90 che si occupa a livello di ricerca quindi anche professionale di linguistica e letteratura Ligure lavora sta completando una tesi dottorale presso l'università di Innsbruck e ha molte pubblicazioni già sul Ligure e il suo intervento riguarderà proprio un profilo linguistico e un panorama letterario del genovese e del Ligure gli lascio quindi volentieri la parola grazie grazie mille buongiorno a tutti sì dunque abbiamo appena sentito una presentazione stupenda su come utilizzare le nuove tecnologie soprattutto per valorizzare e garantire una continuità al nostro patrimonio linguistico regionale e in particolare al genovese che è la varietà di cui ci occupiamo soprattutto se non altro al momento e quindi occorrerà a questo punto effettuare un brevissimo salto indietro per capire cosa intendiamo per genovese allora qui abbiamo una cartina geolinguistica della Liguria quindi una cartina che esemplifica la variazione dei dialetti parlati nella regione e vediamo ad esempio una grande fascia rossa presso la parte centrale della regione ecco quello è il genovese quando noi parliamo di genovese anche in ambito scientifico accademico non ci riferiamo al dialetto di Genova e tantomeno al dialetto di una parte di Genova ma ha uno specifico sottotipo delle varietà Liguri che è quello appunto che vedete segnato in rosso nella cartina e come vedete questa è la varietà più estesa nella regione che comprende non solo Genova ma anche porzioni rilevanti del territorio fra cui la conurbazione del Tiguglio quindi Chiavari Lavagna Rapallo e altre città di media importanza come ad esempio Savona ecco a livello storico il genovese è anzitutto la varietà più prestigiosa banalmente perché afferisce all'antico all'antica capitale della nostra regione è la varietà appunto come dicevo più diffusa in termini sia geografici quindi sul territorio ma anche per percentuale assoluta di parlanti cioè se noi prendiamo i parlanti del genovese inteso appunto nei termini con cui lo si lo si descriveva prima sono più numerosi parlanti del genovese che non quello ad esempio dei dialetti dell'estremo ponente ligure ad esempio e poi il genovese è soprattutto l'unica varietà che dispone di usi scritti ininterrotti letterari e non solo dal basso medioevo dal 200 fino al giorno d'oggi e questo ci consente peraltro di monitorare con estrema attenzione e con grande dettaglio anche l'evoluzione del genovese quindi noi sappiamo ad esempio come si scriveva e quindi anche come suonava il genovese nelle diverse epoche proprio grazie a questa tradizione scritta ininterrotta dunque quali sono le differenze maggiori che separano il genovese dagli altri dialetti liguri ne facciamo qui alcune molto rapide molto brevi e anche molto semplici una ad esempio è la presenza della n velare nella sillaba finale prima di una vocale ad esempio quindi la parola lana si pronuncia a Genova a Chiavari a Lavagna a Savona a Moneglia eccetera a Rapallo insomma langa langa con questa n velare mentre il resto della Liguria dice lana quindi lo stesso si applica a moltissime altre parole come campanga funtanga liatri kingan loro scendono eccetera un'altra caratteristica che separa ad esempio il genovese dalle altre variate aliguri è l'apertura di e lunga latina o i breve latina in alcune posizioni che dà ad esempio la parola beve bere a Genova e nell'area di lingua genovese rispetto a beve delle altre varietà liguri ecco le altre varietà liguri come vedete sono di di diverso tipo basicamente più ci avviciniamo alle ai confini della regione più in qualche modo per semplificare un po' regrediamo nel tempo nel senso che ci avviciniamo a versioni del ligure in qualche modo più conservative e questo perché? Perché il genovese è fra tutte le varietà liguri quella più dinamica cioè quella che più si è evoluta dal latino quella che nei secoli ha conosciuto più mutamenti e peraltro l'estensione di questi mutamenti sono a loro volta un criterio che ci aiuta a capire appunto come definire il genovese su scala geografica quindi questo vuol dire appunto che se noi partiamo da Genova e ci avviciniamo ci spostiamo verso i confini della regione troviamo forme più simili a quelle che contrassegnavano il genovese in epoca antica e questo come lo sappiamo perché ne abbiamo conferma leggendo appunto i testi antichi quindi i testi medievali ad esempio il genovese del 200 del 300 era molto più simile alle attuali parlate in Temelie quindi ad esempio di Ventimiglia di Sanremo rispetto al genovese attuale facciamo un esempio anzi due fra i moltissimi e poi cambiamo argomento come si dice in genovese sabbia qualcuno lo sa? enga perfetto a Genova enga deriva dal latino arena ok? vedete che dal dal latino arena al genovese enga c'è un pochino di differenza peraltro la parola italiana arena deriva sempre da quella parola latina però è molto diversa dal genovese quindi enga arena ebbene se noi ci spostiamo appunto verso i confini della regione quindi verso la spezia da una parte e verso Ventimiglia dall'altra a poco a poco è come se tornassimo un pochino indietro nel tempo è come se trovassimo anzi troviamo la forma sempre precedente a quella che oggi contraddistingue Genova quindi a Genova si dice enga ad esempio in Valpolcevera a Sanquirico per fare un esempio si dice aina ad Arenzano aina e non so ad esempio ad Albenga arena che era una forma molto più simile a quella del genovese medievale e a Ventimiglia anche arena o arena insomma la R si può pronunciare in vari modi e un altro esempio che possiamo fare è la parola per muro come si dice muro in genovese miagia perfetto ok a Genova miagia ad Arenzano ad esempio muagia e se noi appunto ci spostiamo verso la periferia della regione troviamo forme che sono più simili a quella della derivazione etimologica che è il latino muralia e che appunto sono più simili anche alla forma genovese antica che era muragia quindi il fatto che oggi ad esempio si dica muragia in zone come Albenga Alassio o anche Ventimiglia muragia è un'idea del fatto che quelle zone presentano una pronuncia o una forma morfologica più antica e questo è molto affascinante ad esempio leggere i testi letterari e non solo documentari anche del genovese e poi viaggiare per la Liguria e scoprire che persone oggi nel 2023 usano ancora forme lessicali o morfologiche che erano quelle un tempo presenti anche qui a Genova e il genovese anzi Ligure si parla non solo in Liguria si parla grazie appunto alla proiezione extra regionale della nostra regione anche in zone esterne ai confini attuali della Liguria fra questi possiamo menzionare soprattutto da una parte Carloforte Calasetta in Sardegna dove si parla una variante di genovese che peraltro è molto simile a quella parlata oggigiorno in Liguria quindi questo è un altro mito da sfatare che il genovese di Carloforte Calasetta che loro chiamano Tabarchino sia una variante genovese antica la cosa incredibile è che il tabarchino quindi il genovese appunto che si parla in Sardegna e che praticamente chiunque parla a Carloforte e a Calasetta è una forma di genovese pressoché moderno con qualche arcaismo qui e là ma che è comunque combacia in massima parte con il genovese che si parla oggi soprattutto nella fascia costiera fra Genova e Savona se voi oggi volete immergervi in un ambiente dove praticamente chiunque bambini compresi parlano in genovese potete se avete tempo e il lusso di poterlo fare andare a Carloforte e Calasetta e appunto praticare il vostro genovese con una popolazione che ha saputo mantenere con molto più rispetto di noi o delle nostre generazioni passate il mantenimento della propria appunto lingua locale il Ligure si parla anche a Monaco dove è riconosciuto nella variante locale come lingua nazionale del Principato dove si insegna anche a scuola obbligatoriamente dagli anni 70 dal 76 e il Monegasco è l'unica varietà Ligure peraltro che dispone di una normazione ufficiale quindi ha la sua graffia ufficiale le sue forme morfologiche e lessicali riconosciute ed è una lingua appunto tutelata perché anche lì si è capito che la lingua regionale al pari di qualunque altro elemento della cultura locale è un elemento fondamentale della propria identità e quindi pur essendo Monaco ovviamente un paese assolutamente progredito e anzi centro anche della mondanità internazionale anche loro hanno capito da parecchi decenni che vale la pena investire su questi argomenti due parole brevissime cercherò di essere proprio telegrafico per ricordarvi appunto come già ho detto che il genovese ha una letteratura scritta in interrotta dal 200 ad oggi da fino al 200 ad oggi e che ha avuto soprattutto usi per la maggior parte alti usi che ben poco hanno a che vedere con gli stereotipi che molto spesso oggi vengono così sciorinati da parte di insomma da molti cultori anche e quindi quali sono appunto le caratteristiche fondamentali della letteratura genovese una è la continuità cronologica quindi il fatto che non ci siano iati non ci sono fondamentalmente epoche in cui non c'è nulla di scritto in genovese e questa è una caratteristica abbastanza peculiare in realtà perché ci sono lingue regionali in Italia che hanno magari anche più prodotti letterari a livello quantitativo ma non hanno la continuità cronologica che ha il genovese e poi appunto un uso che soprattutto per la maggior parte del tempo è un uso alto ed è un uso che potremmo definire quasi che connota la letteratura genovese in senso nazionale cosa vuol dire? Che per lungo tempo fino alla fine della Repubblica di Genova il genovese era anche la lingua dell'alta società era anche la lingua almeno a livello orale dell'amministrazione e era la lingua anche con cui la Repubblica di Genova soprattutto quella di impronta doriana cioè di Andrea Doria usava per legittimare le proprie istituzioni repubblicane e quindi dal Cinquecento al Settecento il genovese la lingua genovese è stato strumento se vogliamo anche ideologico per ribadire la specificità non solo culturale della Liguria ma anche istituzionale e quando è che comincia lo scadimento della letteratura in genovese verso tematiche più dialettali forse quindi meno serie fondamentalmente dall'Ottocento da quando viene a mancare una compagine politica per la Liguria la lingua genovese poco a poco anche se non in modo repentino comincia a essere usata in senso sempre più basso per toni e per ambiti fino a sfociare negli esiti che oggi conosciamo ad esempio alcuni testi molto famosi che sono anche divertenti da leggere si affermano proprio perché il gusto per il comico per il ridanciano per il disimpegno si afferma a partire dalla fine dell'Ottocento più o meno non senza resistenze voi pensate e faccio solo due esempi poi chiudo pensate ad esempio che ancora a metà ottocento o a inizio novecento c'era chi continuava a proporre il genovese come lingua di una specificità appunto nazionale ad esempio qui nelle immagini vedete la copertina di un poema epico che è la columbiade di Luigi Pedevilla è un mastodontico esempio di poema epico in lingua genovese con cui l'autore difendeva l'uso alto del genovese chiaramente ma anche l'uso del genovese come strumento di identificazione di una di una comunità ben specifica per cultura per storia e anche per istituzioni nel senso che lui si riconosceva ancora nelle istituzioni repubblicane da una parte quelle storiche della Repubblica di Genova e dall'altra quelle repubblicane propugnate da Mazzini che avrebbero invece dovuto attendere fino a metà del novecento per affermarsi un altro esempio è quello che vedete nella metà dell'immagine che è la mastodontica traduzione da lingua a lingua della commedia dantesca di padre Angelico Federico Gazzo che appunto a inizio del novecento tenta in vari modi anche con studi glottologici di ribadire il carattere di lingua neolatina o romanza sto citando letteralmente formatasi come e quanto le altre e vivente di vita propria e quindi lo fa fra le altre cose traducendo la divina commedia in modo assolutamente rigoroso e filologico dunque se voi oggi volete leggere il testo dantesco in un genovese certamente in un genovese ultraletterario ma in un genovese assolutamente serio e non ridanciano potete farlo affidandovi alla traduzione di padre Gazzo e poi invece l'ultimo testo che vedete è quello che forse ho già citato che è l'Eneide di Bacigalupo che invece rappresenta forse l'esempio più lampante della decualificazione del genovese che si afferma appunto da fine ottocento è uno dei molti esempi in cui appunto l'autore prende il testo originale e lo destruttura fino a farne appunto una parodia assolutamente comica e volgare cosa che purtroppo ha influito non poco sugli sviluppi del genovese come lingua scritta e non solo questo lo salto perché non c'è il tempo perché invece vorrei ribadire che tutto quello che ho detto o massima parte di ciò che ho detto si deve agli studi di una persona che è stato Fiorenzo Toso che è stato uno dei maggiori studiosi della lingua della letteratura della nostra regione e che appunto ha dato un contributo assolutamente fondamentale soprattutto anche per quanto riguarda lo svolgimento del genovese in sede letteraria quindi se voi volete approfondire ciò che ho detto potete farlo chiaramente consultando i suoi testi qui ho citato ho riportato la seconda edizione tra l'altro splendida perché ha anche un sacco di illustrazioni della sua storia della letteratura in genovese e nelle parlate liguri che nel sottotitolo ribadisce come la lingua sia un elemento altrettanto importante così come appunto la storia e l'arte che definisce il nostro patrimonio culturale in Liguria e che dura da 800 anni senza interruzione fino ad oggi nel mente se volete insomma se volete attendere o se volete già provare a farlo qui in fondo come diceva Jean c'è uno schermo tattile uno schermo interattivo con cui potete consultare la grande antologia realizzata per noi per il conseggio da Alessandro Guasoni e se volete vedere ad esempio gli usi anche del genovese medievale anche gli usi ufficiali del genovese potete consultarla facilmente qui in fondo in tre lingue genovese italiano e inglese che serve anche a dimostrare che in genovese si può parlare di tutto di argomenti anche di cultura grazie e scusate se ho indugiato troppo grazie faccio la presentazione dell'assessore buonasera a tutti io sono Enrico Granara neomembro del conseggio e sono qui solo in questo momento per fare una presentazione molto volentieri dell'assessore comunale Francesca Corso mi piace citare i titoli con precisione Francesca Corso è assessore presso il comune di Genova con delega a marketing territoriale politiche giovanili pari opportunità prevenzione del disagio della solitudine benessere degli animali ed è coordinatore Anci Liguria Giovani vorrei invitare Francesca Corso qui al parco grazie buongiorno a tutti e grazie grazie per questo invito mi riempie di orgoglio poter essere oggi qua perché già delle prime battute ho sentito un intervento veramente molto interessante permettetemi di dire tenuto da un giovane e questo purtroppo non è scontato perché quando sentiamo parlare di lingua genovese spesso ci vengono in mente le nonne gli anziani della nostra città della nostra regione pensando che questo è un dialetto ormai fuori uso a differenza di quello che succede in gran parte nel nostro paese ebbene questo è un peccato perché non solo il nostro genovese la nostra lingua è ricco di storia è ricco di tradizione di cultura ma è un qualche cosa di così bello da poter tramandare alle generazioni più giovani che in qualche modo sarebbe un peccato perderlo e quindi penso che un incontro come quello di oggi sia molto importante non soltanto per trasmettere il valore di questa lingua a chi probabilmente già lo conosce ma proprio perché ci si voglia anche dare un po' tutti insieme la volontà di poter trovare un modo magari innovativo per poter coinvolgere le giovani generazioni e far comprendere loro quanto sia importante non abbandonare le proprie tradizioni la nostra storia la nostra cultura perché se è vero che siamo in un'epoca nella quale inventiamo neologismi importiamo lingue da altri paesi utilizziamo termini che magari fino a poco tempo fa nemmeno sapessimo sapevamo che cosa fossero perché magari di matrice anglosassone e via dicendo piano piano ci stiamo sempre più distaccando da quella che è la nostra lingua intanto dall'italiano perché spesso siamo portati a usare termini appunto che con l'italiano nulla hanno a che vedere ma soprattutto e questo lo dico tristemente facendo anche un mea culpa dal genovese io personalmente non parlo genovese e questo mi dispiace molto perché io ricordo finché ho avuto le nonne in casa si sentiva parlare il genovese anche con una certa musicalità era una cosa così bella che in qualche modo mi dava il legame della famiglia della tradizione che pian piano è andato perso e questo è veramente molto brutto per il fatto che quando poi ho la possibilità di viaggiare di spostarmi nelle nostre città italiane sento quanto invece i giovani utilizzino i dialetti locali e quanto sia per loro normale utilizzarli anche fra di loro fra giovani e quindi sono tante le iniziative che dovremmo potremmo provare a intraprendere per tramandare sempre di più quello che il genovese ha rappresentato nella storia per così tanto tempo e quello che anche oggi potrebbe rappresentare perché è giusto innovarsi è giusto andare avanti è giusto adattarsi a quello che i tempi impongono ma è anche giusto non dimenticare da dove veniamo a livello comunale stiamo provando a lavorare a delle iniziative che in qualche modo coinvolgano appunto i più giovani proprio nel voler dar loro l'importanza e il valore di quello che oggi viene appunto trasmesso insieme all'assessorato alle tradizioni del comune stiamo cercando appunto di vedere quale sia la modalità più giusta per coinvolgere i giovani i giovani che non hanno voglia spesso di stare all'interno di una sala e di essere indottrinati se vogliamo con metodi prettamente accademici perché magari già lo fanno a scuola già lo fanno nelle università e già sono in qualche modo costretti a passare la propria vita stare seduti ad ascoltare però ci sono tanti mezzi e tanti strumenti che vengono utilizzati oggi per trasmettere dei messaggi penso alla musica penso alla cultura penso allo spettacolo alla televisione alla radio a tutto quello che in qualche modo per i giovani è normale i social network perché no e quindi anche attraverso dei musicisti genovesi che fanno rap perché non è che la musica genovese sia per forza una musica tradizionale che ai giovani non interessa ma col genovese si può fare di tutto di fondo attraverso loro attraverso anche le scuole si sta cercando in qualche modo appunto di poter passare questo tipo di messaggio e quindi ovviamente voi avete un ruolo fondamentale in tutto questo perché intanto siete i portatori del sapere perché io posso soltanto rimanere affascinata di fronte a quelle che sono le vostre parole di fronte a quelle che sono le vostre iniziative di fronte a quello che è il vostro linguaggio di fatto quello che è il vostro modo di esprimervi in genovese però poi appunto il modo pratico nel quale poter tramandare tutto questo in qualche modo deve essere concordato insieme perché noi come amministrazione abbiamo forse la possibilità di comunicare più facilmente alla popolazione e quindi di saper coinvolgere i più giovani e non solo però appunto voi avete custodito questo sapere che è fondamentale trasmettere e fondamentale che non tegnate solo per voi come oggi state facendo quindi la disponibilità è ovviamente quella di metterci insieme di collaborare affinché tutto questo non vada perso perché sarebbe un vero peccato ed io per prima sarò nelle prime file appunto ad ascoltarmi con interesse perché veramente ne ho la necessità da cittadina attaccatissima la mia città e con un sacco di campanilismo per la stessa e con la voglia e la volontà di far sì che tutto quello che ha un bagaglio culturale così importante che in pochi possono vantare non vada perduto quindi grazie nuovamente per tutte le vostre iniziative per quella di oggi e per tutte quelle che insieme magari riusciremo ad organizzare grazie ringrazio l'assessore che ha detto delle cose veramente notevoli perché non è comune questa sensibilità a volte negli amministratori locali allora adesso ci dovrebbe essere Piero Cademartori che ci porta un'esperienza editoriale in quanto ha dato vita alla casa editrice zona è molto attiva nella pubblicazione di testi dialettali di grande qualità e ci presenta e ci presenta le sue iniziative editoriali da E resta un furme a Zimede Braja pubblicare la letteratura da Ligure grazie grazie buonasera innanzitutto ringrazio chi ha permesso ha organizzato tutto questo perché è molto importante e molto che sono un po' le persone che insomma avete già visto e che permette di approfondire in questa maniera la lingua genovese noi come casa editrice siamo una casa editrice di Genova editrice zona abbiamo sempre affrontato i linguaggi i linguaggi della poesia della letteratura i linguaggi della musica della canzone questa è la nostra passione e in questo quindi annoverare nel nostro catalogo una serie di libri che approfondiscono la lingua genovese nelle sue forme direi più belle e importanti questo ci sembra un modo per gratificare prima di tutto noi stessi come casa editrice come editori ma poi anche quello di poter fare quello che è il compito di un editore cioè quello di poter rendere disponibili una serie di strumenti e di libri che possano invogliare ad approfondire a conoscere meglio parti della letteratura in questo caso del genovese diciamo che come casa editrice il nostro incontro primo è stato appunto con Fiorenzo Toso che ci ha voluto regalare così alcune alcune sue pubblicazioni noi abbiamo pubblicato il piccolo dizionario etimologico Ligure che è un bellissimo volume dove Toso mette in maniera molto come dire non non professorale insomma ma a disposizione di tutti pone e chiarisce alcuni termini genovesi che magari possono produrre dei dubbi appunto abbiamo sentito prima dei bellissimi esempi di come vengono poi interpretate le parole ecco lui chiarisce una serie di punti in questo libro e poi ci ha regalato due suoi libri proprio libri di poesia suoi Erestan Furme che ha dato titolo ad una collana alla quale poi sono seguite le poesie di autori contemporanei che scrivono in genovese e poi Navegante che è stato un po' come dire ha voluto tracciare i suoi ultimi anni da studioso da da persona che ha avuto la capacità di riflettere sul mondo ecco diciamo la specificità proprio di questo genovese che utilizza Toso amato da Toso era proprio quello di un genovese che parla del mondo e così anche tutti gli altri autori che sono usciti in collana e che alcuni sono qui che che abbiamo pubblicato hanno come dire la volontà talvolta forse l'ardire di utilizzare il genovese come una lingua che appunto parla delle cose nostre odierne noi spesso siamo abituati a intendere il genovese spesso come qualcosa che ci parla della memoria ci parla di una società che non c'è più di una vita passata per chi ha come me che sono un giovane degli anni 70 invece in questo caso il genovese viene proprio scritto e parlato come una lingua di adesso che parla delle cose di oggi che parla del nostro mondo e questa è un'espressione molto importante e direi fondamentale proprio per recuperare la lingua per andarla ad approfondire dal punto di vista come stanno facendo le persone che qui parlano che approfondiscono diciamo così proprio tutta la storia di questa lingua e riproporla in una forma odierna è certamente una cosa molto molto bella e ritengo importante e fondamentale proprio per utilizzarla riutilizzarla in questo vengo alla collana più recente nata proprio da pochissima insomma che è curata dal conseggio per il patrimonio linguistico ligure che si chiama Zimme de Brascia è già il nome è bellissimo no? Scintille di Brascia che ci dà già il senso di come questi libri siano dei momenti in cui andiamo a riscoprire qualcosa che cova non che sta lì come la braccia appunto e che proprio andandoli a sfogliare facciamo rivivere no? E questo già lo ritengo una cosa molto molto bella e in questo caso si fa una come dire una crasi una sintesi un'unione tra quella che è la storia della letteratura e quella che è la nuova espressione della letteratura in genovese perché appunto si alternano sia libri della della tradizione del genovese sia libri invece di autori contemporanei viventi scriventi parlanti e che quindi affrontano il genovese proprio da da questo punto di vista prendendo dalla matrice storica e portando il loro linguaggio ponendolo diciamo così a disposizione di tutti interpretando in genovese quelli che sono poi i nostri pensieri del momento i nostri pensieri attuali questo mi sembra una scelta molto molto importante è la cosa che a noi come editori ha convinto maggiormente proprio questo approccio diciamo al genovese e quindi ci fa molto piacere oltre che ci onora il fatto di poter pubblicare questi libri e trovare in tutti voi che siete qui anche l'attenzione necessaria dovuta di cui c'è bisogno insomma per per dare valore e sostanza allo studio e alla proposta che noi facciamo come editori ma che soprattutto le persone che curano questi libri fanno proponendoli a tutti noi che possiamo disporne grazie mille grazie a Piero Cademartori e adesso segue Alessandro Guasoni il tempo il tempo nuovo della poesia in Ligure il novecento il duemila Alessandro Guasoni non ha bisogno di tante presentazioni scrive in genovese da quando era ragazzo ha collaborato con Fiorenzo Toso nella pubblicazione della grammatica attascabile il genovese in tasca collabora col secolo decimo nono e ha curato la rubrica di critica letteraria in genovese Vuge de Liguria e vedo che si sta occupando di pubblicare sul web un'antologia della letteratura ligure dalle origini a oggi gli lascio quindi la parola molto volentissimo grazie grazie io dovevo parlare della letteratura in genovese dal novecento a oggi scusate io leggo perché non mi ricordo le cose dunque partiamo dagli inizi del novecento quando la letteratura in genovese aveva forse raggiunto il punto più basso della sua parabola discendente prevaleva ovunque l'idea che in genovese si potessero trattare soltanto temi comici o folcloristici o comunque locali le uniche eccezioni erano costituite da Carlo Malinverni autore peraltro ancora ottocentesco e risorgimentale e dal padre Angelico Federico Gazzo frate Cappuccino con le sue traduzioni dai classici di cui la più nota è la versione filologicamente accurata della commedia di Dante effettivamente il padre Gazzo aveva un concetto della lingua genovese come quello di una lingua totale completamente diverso da quello dei suoi contemporanei ma non ebbe seguaci all'epoca il Gazzo rimase uno studioso isolato l'idea più diffusa rimase quella che i dialetti dovessero gradualmente recedere di fronte alla lingua nazionale e infine sparire un loro regresso direttamente proporzionale al dilagare della lingua italiana cominciò a realizzarsi solo nel secondo dopoguerra con l'avvento della televisione e della scolarizzazione di massa oltre che di mutate condizioni di vita mentre i dialetti cominciano a declinare l'attenzione di molti studiosi e letterati si volge ad essi visti come serbatoio di una verità di un sapere antico non inquinato dalla modernità sono gli anni della famosa antologia di Pasolini e dell'arco gli anni del neorealismo con la sua esaltazione del popolo della vita popolare dei genovesi entra solo Firpo nell'antologia pasoliniana e da allora sempre più nella coscienza collettiva resta come l'unico poeta valido che abbia mai scritto in genovese soppiantando a poco a poco la percezione della poesia genovese come poesia comica e folcloristica dopo la sua scomparsa fiorisce quindi tutta una serie di imitatori di autori che si ispirano a lui una vera e propria scuola firpiana a lungo andare divenuta stucchevole perché imitava gli aspetti più esteriori della poetica di Firpo con tutto ciò venne a rappresentare un certo rinnovamento che altri autori furono in grado di ampliare dopo di lui bisogna dire che in realtà fra gli anni 30 e gli anni 50 c'era stato anche qualcun altro a rappresentare una linea seria nella letteratura in genovese bisogna menzionare almeno Italo Mario Angeloni Carlo Domingo Adamoli Guido Nielsen questi autori piuttosto validi e degni di nota non ebbero però da parte della critica la stessa attenzione che toccò a Firpo il cui molto relativo e circoscritto successo d'altronde non cambiò le sorti della letteratura regionale su cui continuarono a gravare i vecchi pregiudizi di provincialismo e di arretratezza isolato dal terreno in cui era nato Firpo senza tener conto della coppiosa letteratura del passato la sua figura sembrava quella di un fiore nel deserto nasceva dal solito equivoco della letteratura dialettale genovese come una strana appendice della letteratura italiana cosa che può essere valida per altri dialetti ma non per il genovese o non del tutto la notorietà di Firpo come produsse dei seguaci ricordiamo i vari Vito Elio Petrucci Sandro Patrone Cesare Vivaldi Giuseppe Cassinelli e diversi altri produsse anche per reazione le opere di autori che in certa misura vollero discostarsi da quelle tematiche e da quel linguaggio pensiamo a Plinio Guidoni con il suo occhieggiare alla letteratura anglosassone a Elliot e a Pinter si pensi a Giuliano Balestrieri poeta della città moderna accostata nella sua ispirazione alle metropoli di oltreoceano a Sergio Silieri o Angelo De Ferrari cantori dell'anima del porto e della dura vita portuale bisogna ricordare soprattutto la radicale reazione in tutto e per tutto antilirica e intellettualistica di Roberto Giannoni che predilesse una poesia narrativa di scavo nell'inconscio e nella storia della città una poesia che di poetico ha poco nelle sue intenzioni quasi scientifiche e cronachistiche di riprodurre la realtà in tutti i suoi aspetti e spesso risulta come impacciata dalle premesse teoriche del suo autore durante il novecento appaiono anche per la prima volta delle poetesse nella letteratura genovese ricordiamo in proposito Rita Cuneo forse la prima a trattare in genovese della condizione della donna la savonese Rosita del Buono o anche Flora Mancini Enrico Arvigo Piabandini nel corso degli anni sessanta e settanta erano comunque emersi molti autori non legati direttamente alla poetica firpiana ma genericamente attratti da temi sociali valgano per tutti nomi come Antonio Frassoni Angelo De Ferrari Luigi Cornetto questi temi erano tradizionali nella letteratura genovese da sempre improntata a una ricerca della concretezza e dell'utilità nella letteratura per quanto riguarda il teatro l'enorme ingombro costituito dalla personalità di Govi sembra a tutt'oggi essere un ostacolo insormontabile per qualsiasi tipo di rinnovamento della scena genovese si continua a dare la preferenza a un tipo di teatro comico che esclude ogni sviluppo delle situazioni in senso drammatico naturalmente una produzione più seria esiste ma non trova quasi nessuno spazio nella programmazione dei teatri si possono ricordare ad esempio le opere del già menzionato Plinio Guidoni che negli anni 80 e primi anni 90 del secolo scorso parvero costituire un esempio per tutti coloro che volessero dare nuova vita alla scena teatrale genovese ma che in pratica hanno lasciato le cose al punto di partenza a causa della sostanziale indifferenza del pubblico che continua a preferire canovaci di tipo goviano in fatto di poesia il novecento ha visto una fioritura davvero enorme dal punto di vista quantitativo un piccolo censimento effettuato dal compianto Fiorenzo Toso all'inizio degli anni 90 contava addirittura più di seicento poeti dialettali in Liguria in questi primi decenni del ventunesimo secolo si sono ritagliati un loro spazio alcuni autori nuovi lontani dall'imitazione di Firpo come da altre chimere neodialettali in voga presso i critici letterari italiani citiamo lo stesso Fiorenzo Toso oltre al sottoscritto a Bruna Pedemonte ad Anselmo Roveda a Daniele Caviglia al cantante regge e poeta di strada Marco Carbone mentre nelle riviere sono emerse le tiguline Andreina Solari e Danila Olivieri e l'intemelia Maria Pia Viale nell'oltregioco si può menzionare Pietro Baccino di Giusvalla esploratore della flora e della fauna dell'entroterra Savonese oltre che della rude anima del popolo ligure nonché Roberto Benso di Carrosio mentre la prosa teatrale continua a essere negletta o comunque trascurabile la prosa narrativa o giornalistica ha conosciuto parziali momenti di ripresa come la nascita di riviste interamente in Genovese come negli anni 50 la rivista Zena di Ettore Balbi e in tempi vicini a noi la pagina Parluceu del secolo XIX a cura di Andrea Acquarone e la sua rivista Ustafì che ha tentato di riproporre una prosa giornalistica in Genovese negli ultimi decenni del Novecento inizio 2000 c'è stata inoltre una ripresa della prosa memorialistica con i racconti di Don Guido Pastor nella parlata di Bugio della Sestrese di Ponente Elsa Pastorino Aloisio della popolare attrice Maria Terile Fitz del rio Maggiorese Siro Vivaldi racconti senza vere e proprie veleità letterarie ma volti soprattutto a salvare ricordi di comunità a un tempo molto coese e vive e oggi scomparse un via di sparizione a causa dell'avanzare della globalizzazione e di modelli di vita incompatibili con esse tutto ciò grazie anche a un concorso riservato alla prosa in Ligure come quello del premio Ponte d'Assio la narrativa di finzione non ha avuto invece un grande sviluppo se si eccettuano i racconti di Fiorenzo Toso principalmente di ispirazione sociale finora inediti in volume sparsi su riviste stampate quasi alla macchia e alcune storie di fantascienza e di fantasy del sottoscritto raccolti in volume con il titolo Ai rastelli delle stelle per quanto riguarda la canzone negli anni venti del secolo scorso si era verificato il fenomeno della canzone un tentativo promosso da alcuni ambienti giornalistici di uguagliare o battere la canzone napoletana sul suo stesso terreno nella stessa epoca iniziava la sua carriera Giuseppe Marzari che merita un discorso a parte in quanto fu uno dei primi cantautori e le sue canzoni furono di un genere brillante e umoristico in un genovese molto caratterizzato e particolarmente incisivo nella seconda metà del secolo scorso fa anche la sua comparsa la produzione di Fabrizio De Andrè che però entra solo fino a un certo punto nell'ambito della letteratura genovese e ha senso soprattutto se inquadrata nella storia artistica personale dell'autore una cantante che ha tentato negli ultimi anni una sua via molto personale alla canzone genovese è stata Roberta Aloisio purtroppo mancata prematuramente che si ispirava per le sue canzoni sia al folklore sia alla storia locale anche cercando connessioni con canti popolari e storie nate sotto altre latitudini tornando alla prosa ultimamente sono comparse anche alcune traduzioni o esperimenti di traduzioni da altre lingue ricordiamo a opera di Toso la versione della lorchiana La casa di Bernarda Alba e della Bocca del lupo di Remigio Sena nonché la traduzione del racconto picaresco di anonimo secentesco Lasriglio de Tormes portata a termine da Stefano Lusito inoltre Enrico Granara ha tradotto e diffuso articoli giornalistici di vari autori da argomento storico sociale e marinaresco recentemente raccolti in volume il diffondersi delle nuove tecnologie informatiche in questo primo scorcio del ventunesimo secolo potrebbe tuttavia rivelarsi molto utile ai fini di una conservazione e di una valorizzazione della lingua genovese sono molte infatti le iniziative in tal senso che non si servono più dei mezzi tradizionali di comunicazione ma si affidano al web ai post su facebook e ad altri social o ad appositi siti su internet come è il caso del recente esperimento del periodico tra tante notizie d'attualità Usina a cura di Fabio Canessa è anche il caso del sito web curato dal consiglio per il patrimonio linguistico della Liguria che tra l'altro contiene un dizionario una grammatica e una antologia della letteratura Ligure dalle origini a oggi e con questo io avrei finito grazie allora grazie ad Alessandro Guasoni che ci ha fatto vedere come in Ligure si possa scrivere qualsiasi cosa e a questo proposito aggiungiamo anche la letteratura per l'infanzia in quanto Anselmo Roveda ci presenterà non solo la letteratura per l'infanzia d'espressione Ligure lascio la parola ad Anselmo buongiorno proviamo a contare dei foe senza contare dei foe le favole hanno uno spettro semantico ampio anche in genovese come in altre lingue romanze le favole e i testi per l'infanzia tutti vedremo come ci sposteremo nell'ambito della letteratura per l'infanzia hanno una storia peculiare anche nella letteratura di espressione Ligure e mi sembrano di particolare interesse come ambito perché ricollega immediatamente all'infanzia per l'appunto alle nuove generazioni a chi ci proietta nel futuro e quindi auspicabilmente proietta nel futuro anche la lingua senza una produzione culturale rivolta alle nuove generazioni capace di interessare le nuove generazioni l'abbiamo sentito anche nei discorsi precedenti è difficile diciamo riuscire a portare la lingua a un domani per muovere le slide devo schiacciare quel coso là giusto? Bene nel 2004 parto da lontano ma arrivo vicinissimo nel 2004 su invito di Gualtiero Schiaffino allora assessore provinciale tenevo una prima conferenza su questi temi in realtà si trattava di una ricognizione degli ultimi dieci anni 94-2004 che erano stati particolarmente vivaci ve ne racconterò in questo tempo sono andato a approfondire la ricerca e giusto l'anno scorso sono riuscito a dare una prima sistematizzazione a questo materiale che racconta prova a raccontare una storia in realtà lunga 200 anni perché la letteratura per l'infanzia d'espressione ligure data appunto 200 anni grosso modo come le letterature per l'infanzia di altre lingue europee perché mi consenterete di fare un passaggio indietro per definire l'ambito della nostra ricerca che cos'è la letteratura per l'infanzia e quando nasce come quella che intendiamo oggi bene lì trovate una definizione generica e ampia la letteratura per l'infanzia è assai più di un genere un settore un ambito editoriale all'interno del quale ricadono diversi materiali quelle che oggi conosciamo come le opere propriamente scritte direttamente per i bambini e le bambine ma anche una serie di materiali di forme letterarie che ci giungono da tradizioni differenti la favola classica la fiaba popolare le fiabe letterarie la novellistica italiana bene tutto questo materiale le letterature ricadute i testi di letteratura non pensate immediatamente per l'infanzia ma ricaduta nei gusti dell'infanzia o quantomeno nella proposta editoriale pensate a il barone di Boncausa nei viaggi di Gulliver a Robinson Crusoe tutti i testi che nel corso dei secoli vengono più facilmente presentati all'interno di edizioni per l'infanzia ma che non nascono propriamente come testi per l'infanzia esattamente come le fiabe popolari letterarie e la favola ma quindi quando nasce questo corpus di materiali dedicato all'infanzia esattamente quando nasce l'infanzia il concetto di infanzia in senso moderno tra il settecento e l'ottocento quando l'infanzia si inizia a percepire come un'età a cui dedicare cure di tipo fisico e intellettuale al quale dedicare un tempo per la crescita riconoscendone dei bisogni specifici e quindi liberandoli da ad esempio l'occupazione lavorativa e infatti le legislazioni europee tra metà dell'ottocento e primissimi novecento ci conducono proprio a da un lato la liberazione del lavoro dell'infanzia e ovviamente a le leggi di alfabetizzazione per cui l'estensione e la possibilità della lettura per tutte e per tutti questo fa sì che finalmente nasce un'infanzia libera nel tempo in cui si riconosce come gruppo di pari più che come ambito familiare o territoriale e quindi nascono delle proposte culturali a loro dedicate in realtà uno dei precursori del vi ho messo qui il primo libro per l'infanzia propriamente detto che è stato pubblicato nel Regno Unito nel 1744 dall'editore britannico Johnny Ubery e è il primo libro stampato anche in un formato pensato per essere accolto ad esempio dalle mani dei bambini in realtà la letteratura per l'infanzia e mi avvio alla conclusione di questa premessa ha un'evidenza forse da una seconda metà dell'ottocento se i grandi classici della letteratura per l'infanzia che possiamo condividere venirci in mente si collocano grosso modo se vi dico un ventennio tra il 1865 il 1886 escono Alice nel Paese delle Meraviglie Pinocchio La Tigra della Malesia in periodico Cuore Heidi Le avventure di Tom Sawyer ecco tutti questi testi nascono esattamente in quel momento e in Liguria ecco in Liguria anche la letteratura per l'infanzia nasce e si avvia a una non ancora a una sua continuità ma al suo primo esempio proprio nel 1822 questi erano Alice Pinocchio appunto che ci accompagnavano in questa storia ma nel 1822 un signore che si chiama Martin Piaggio che conosciamo bene per la serie dei Lunari del Signor Regina pubblica l'Esopo Zenese è una raccolta di fiabe sono 50 di fiabe pardon di favole di 50 favole che si inseriscono in una tradizione all'epoca fortunata perdurante l'eco della fortuna delle fiabe delle favole di La Fontaine è ancora vivissima in Europa e non è l'unico bene la fortuna di quel volume è tale che nel 1829 soltanto sette anni dopo viene approntata una seconda edizione una nuova edizione ha cresciuto del doppio tra le favole propriamente dette i componimenti di dedica introduzione e prefazione tutti rigorosamente in rima in piaggio arriviamo a 107 testi e lì è proprio nella prefazione che troviamo l'indicazione chiara di un destinatario infantile perché le favole genericamente la favola esopica allegorica non ha immediatamente un destinatario infantile un destinatario popolare ma dall'Ottocento inizia a essere dedicata affiancata più alle nuove generazioni e questo lo fa anche piaggio tanto che ricerco l'appunto in quella prefazione in rima individua ed esplicita il destinatario dicendo nu sape ambizione né mania di compunghe di belle cose poetiche pedute persone ma di racconti in rima come amemosa da dedicare ai figi bene bene e in questa esplicitazione e poco oltre si rivolge invece ai genitori dicendo fai le imprende fatele imparare ai bambini queste favole diventiamo studiosi obbedienti diventeranno studiosi obbedienti che abbiamo chiaramente questo primo esempio di letteratura per l'infanzia genovese in realtà Piaggio che conoscerà al di là del giudizio diciamo sulla sua opera dei critici contemporanei conosce al tempo e in generale una fortuna grande tanto che già nelle antologie successive che raccolgono le favole nel 1846 c'è la prima ma se noi guardiamo lungo anche tutto il corso del novecento le favole di Piaggio vengono continuamente riproposte bene quel quell'avvio della favola è anche l'avvio dicevamo della letteratura per l'infanzia perché la letteratura per l'infanzia come accennavo in precedenza è molto altro oltre la favola c'è la fiaba ma ci sono anche i testi di invenzione quei titoli che vi citavo prima sono gli autori che si inventano delle narrazioni c'è il dialogo con l'illustrazione e quindi gli albi illustrati ci sono i fumetti ci sono le traduzioni di altre lingue c'è la poesia c'è il teatro e ci sono quei testi invece che indagano in una dimensione più divulgativa la lingua e la propongono bene nel corso dei successivi duecento anni quelli che ci separano dalla prima edizione del Piaggio la letteratura ligure per l'infanzia ha sperimentato si è data in tutte queste forme ovviamente con numeri esigui in una dimensione rarefatta in questa ricognizione che ho fatto noi possiamo individuare nel corso di duecento anni più o meno cento centoventi titoli al massimo non sono i titoli e ovviamente di qualità varissima ci sono cose molto belle ci sono cose meno fortunate bene però la cosa interessante la cosa che interessa lo studioso ma può interessare invece la praticità del fare letteratura è quella che tutti gli ambiti tutte le forme del darsi della letteratura per l'infanzia sono state esperite vedremo vedremo come e quando innanzitutto soffermandoci un istante sulla favola la favola proprio per quel modello che Piaggio ha rappresentato e continua a rappresentare un modello inconsapevole ma talvolta invece recepito in modo esplicito degli autori io ho provato a mettervi qui velocemente non so come quanto si veda ma una lista di autori che a vario titolo si sono occupati o hanno incluso favole nelle loro raccolte poetiche si va dall'anonimo novese che traduce nel 1832 una favola del Pignotti fino alle favole di fatto che guardano la tradizione nelle favole comprese nel volume di Roberto Benso che incontreremo oggi bene la cosa ancora più curiosa e questi ovviamente sono testi che hanno immediatamente un pubblico adulto prevalentemente ma dialogando con la forma della favola e sovente essendo anche illustrate possono ricadere ricadono nella letteratura per l'infanzia bene questa lunga ad esempio sto fermandoci su una data qualsiasi quel 1941 in cui esce Le Bulli che Monegasche di Luis Notari lì vediamo che il testo fondativo ad esempio della letteratura Monegasca di fatto è un testo di letteratura per l'infanzia è un testo di indovinelli ma principalmente di favole e questa è la costellazione che sono andato a ricreare quei titoli che vedevate prima sono quelle stelle che si pongono su quella cartina che abbiamo già visto nel corso della giornata come vedete la favola si è data in questi 200 anni pressoché in tutte le varietà della lingua nei diversi luoghi e questo è un patrimonio grande è un patrimonio a cui attingere è un patrimonio a cui proiettandosi nel futuro può essere molto interessante non soltanto da studiare ma anche da riportare da verificare da vivificare con le nuove generazioni la letteratura per l'infanzia però e lo dico da appunto da persona che si occupa di letteratura per l'infanzia come autore per fortuna non è soltanto la favola allegorica è molto molto altro e anche come vi dicevo anche in Liguria questo è avvenuto in realtà è avvenuto e direi per fortuna proprio negli ultimi 50 anni con maggiore evidenzia anche se non mancano esempi la cosa curiosa è che la cosa interessante è che proprio nel momento in cui si va a imporre la letteratura per l'infanzia come ambito quell'ottocento che dicevamo è il momento che abbiamo sentito anche negli interventi degli altri intervenuti è il momento del regresso della lingua si limitano gli usi del genovese il genovese diventa da lingua di prestigio dotata di di un uso in una comunità che fa riferimento a uno stato che ha continuità territoriale e storica da 700 anni ha parlata periferica marginale di una regione che peraltro ha motivi di attrito anche con i centri del potere storicamente appunto la Repubblicana Genova contro la Sabauda Torino e poi l'altrettanto Sabauda Roma bene nell'ottocento cioè fino agli anni 70 del novecento non esce moltissimo giusto si possono si può rintracciare nel lunario per l'anno 1869 una fiaba di Farina che è uno dei continuatori del Piaggio e a Fuada Bella Rusa Spina che ha diciamo ha modelli nella fiaba europea e che viene spesso citata nelle storie letterarie abbiamo poi un testo teatrale nel Cito 1 ma l'autore ne ha realizzato altri il sacerdote Luigi Persoglio con i pastui a preseppio che è di fatto un dramma per questo periodo natalizio che ripropone la rappresentazione del Gelindo ma altre sono i drammi teatrali in realtà le commedie che vengono proposte per l'infanzia negli anni in cui è parroco a morta e qualcosa in genovese qualcosa in italiano qualcosa ancora da recuperare come un baciccio a Mainazenese in Cinga che sarai curioso di prima o poi di recuperare nella sua integrità poi abbiamo Malinverni che è stato citato Malinverni è un poeta diciamo che collochiamo nella storia generale della letteratura ma in realtà Finn dal Don Aver lo evidenzia nella sua antologia è un poeta dell'infanzia non sono poche le poesie che lui compone in occasioni di premiazioni scolastico intervenendo a momenti per bambini ecco quelle poesie alcune in forma di Ninna Nan altre invece in forma di poesia sono un esempio forse il primo esempio proprio di poesia d'autore accostata alle giovani generazioni poi c'è una stagione in realtà brevissima perché negli anni venti del novecento escono diversi libri scolastici con testi in genovese in realtà sono l'effetto della riforma gentile del ventitré nelle quali il dialetto viene inserito nei programmi ma non per valorizzarlo ma semplicemente per utilizzarlo secondo diciamo i dettami del metodo contrastativo per insegnare per accostare alla lingua in quel caso la lingua italiana chi non avesse altri strumenti che quelli del dialetto del genovese restano però oggi per noi sia per chi studia ma anche per la proposta editoriale interessanti perché ci permettono di cogliere vedere delle scelte delle sensibilità intorno ai testi e c'è da un punto di vista storico anche da notare che sono verosimilmente i testi per bambini con testi in genovese che sono stati più utilizzati che hanno circolato maggiormente perché mediati per l'appunto dall'uso scolastico poi c'è una sorta di grande silenzio di grande pausa che è rappresentato dal novecento dalla parte centrale del novecento dove non si smette la favola ve lo accennavo prima ma non escono libri dedicati esplicitamente all'infanzia fino a quando nel 1972 esce opera di Emma Mindolo una poetessa di Savona e compone in questa raccolta di poesie è dedicata anche all'infanzia e diversi testi di questa raccolta giocano proprio con le forme ad esempio appunto della riunda del giro tondo e quindi con componimenti che ben si prestano anche a essere detti altavoce è una data importante il 72 per tante ragioni anche in storia di letteratura per l'infanzia su scala italiana nazionale e rappresenta per strana coincidenza anche diciamo il riavvio della storia ligure per l'infanzia con le belle esperienze alla cavallo degli anni 70 80 di Ventimiglia con i centri diciamo di cultura dialettale in Temeglia con l'attività di Azzaretti e di Villa degli animatori della compagnia di Ventimigliusi perché sia con una compagnia teatrale che con i centri dialettali che portavano nelle scuole vengono prodotti una serie di materiali vari dai materiali didattici fino ai testi teatrali vedete testi teatrali materiali didattici poesia abbiamo iniziamo veramente a ricomporre quel quadro ampio di forme e nell'ambito della lingua e della divulgazione nell'81 esce un libro molto grazioso curato dai Danos Muckers che è il dizionario genovese per bambini si tratta di un imagier cioè si tratta di un libro di figure di un libro attraverso le quali la visualizzazione degli oggetti della casa degli ambienti gli animali il bambino e la bambina riconosce immediatamente ovviamente la forma la figura e poi viene associato il nome genovese ma e mi avvio a conclusione è vero se no poi la professoressa mi sgrida la vedo è con il 94 e con diciamo questi ultimi 25 30 anni che la letteratura per l'infanzia nonostante siamo in un momento di ulteriore regresso se possibile della parlata e forse anche per quello la produzione editoriale per bambini e ragazzi si fa sempre più interessante anche qui non sono grandi numeri ma si accosta a forme vicine al gusto e alla sensibilità delle letterature sorelle alle contemporanee a quelle romanze ma anche le letterature europee affiancando sempre di più anche nella confezione non soltanto nell'idea testuale ma anche nella realizzazione dei testi della confezione del libro si vengono affiancate le illustrazioni si inizia a portare la letteratura per l'infanzia ligure in un contesto vicino prossimo a quello delle altre letterature europee nel 94 esce la traduzione di Pinocchio opera di Irene Cavallero e di aiutata da Felice Franchello ed è lì il primo diciamo libro per l'infanzia da altra lingua che viene portato in genovese è anche il primo dei Pinocchio ecco sulle traduzioni però è anche una traduzione e avvia la stagione traduzioni lo vedremo lo vedremo magari in accenno il peccato sulle traduzioni è che si indugia sempre molto sulle stesse del Pinocchio oggi in genovese in Ligone abbiamo 4-5 versioni non tutte nobilissime sul il piccolo principe lo vedremo ne abbiamo versioni diciamo per ogni varietà linguistica ci sono altri grandi classici che attendono una traduzione che sarebbe interessante diciamo confrontarsi con quello nel 95 esce qui segnalo diciamo l'eccezionalità molti altri sono i libri ovviamente che escono Escenità Opesco e Adus e Derfing a Risha di Rudy Ciuffardi che ha la peculiarità di essere il primo albo illustrato cioè ha un formato da albo illustrato è tutto illustrato e l'illustratrice è un'illustratrice professionista iniziamo a avere libri che non soltanto piacciono a noi perché sono letteratura per l'infanzia in Ligure ma tendenzialmente sono libri che se vanno in mano alle bambine e alle bambini ne godono anche loro perché questo potrebbe essere l'altro discrimine e poi è l'inizio delle fiabe qui in realtà pensate per gli adulti ma che sono un materiale interessantissimo da proporre le fiabe di Elsa Pastorino all'Oisio che hanno una che riprende le fiabe della tradizione Ligure che con una vivacità e una pertinenza linguistica meriterebbero oggi forse di essere riproposte proprio in una forma illustrata nel 2000 inizia anche la serie di libri che Nino Durante dedica alla letteratura per l'infanzia negli anni sono quasi una decina prima con riscritture sono riscritture in rima adattamenti molto liberi molto contestualizzati localmente ma prima riprendendo la grande fiabistica europea internazionale poi con riscritture di fiabe della tradizione e qualche volta indugiando diciamo in parodie di grandi classici il cuore piuttosto che i promessi sposi nel 2002 prende anche avvio il progetto FOA che è promosso dal gruppo Città di Genova che ha avuto il pregio in quei primi anni 2000 di andare nelle scuole con diversi progetti e anche di regalarci a parte qualche precedente i primi fumetti in Genovese qualche precedente perché ma proprio come anedotica ve lo racconto negli anni 90 qualcuno aveva fatto una bella edizione pirata di Asterix in Genovese se vi capita è una però quella è una chicca per collezionisti poi nel 2003 e qui iniziamo proprio questi ultimi vent'anni sono quelli del fiorire e io però accelero abbiamo Giovanni Meriana che prima con Trefò e poi con Ugello Peitin farà delle raccolte di fiabe abbiamo nel 2003 questo libro che è forse il più importante della letteratura per l'infanzia genovese si tratta di una traduzione è Turchinetto e Gianettin Piccolo Blu Piccolo Giallo è un classico internazionale mondiale della letteratura per l'infanzia scritto da Leo Leoni autore cosmopolita che amava anche la Liguria come il figlio Manni Leoni che ne ha favorito poi un'edizione in genovese curata per le parole da Fiorenzo Tosa ecco questo è un librino veramente molto prezioso e che soprattutto allarga l'orizzonte dall'immediatamente locale invece all'internazionale che è l'unica cosa che permette alle lingue di vivere quando si interconnettono con altre tradizioni letterarie linguistiche questi di nuovo sono meravigliosi sono i fumetti che dal 2010 questi sono il tenten di Hergé pubblicato nel Principato di Monaco in Monegasco sono usciti tre volumi poi altri fumetti non di Hergé poi vi dicevo il Piccolo Principe oggi ne abbiamo almeno due versioni in genovese una versione in tabarchino realizzata da Margherita Crasco da un'altra insegnante abbiamo una versione in tendasco Arpicim Prince è una versione in Ligureo Lloriasco ecco anche lì vedete che è classico sempre in questi in questi ultimi dieci anni escono degli altri dizionari visuali che sono quelli curati da Franco Bampi con le immagini di Marco Merli sì nel 2020 esce e qui ci avviciniamo al nostro oggi la traduzione genovese della Sarillo de Tormes realizzata da Stefano Lusito e un libro di nuovo divertentissimo di Fabrizio Casalino che conoscete come cantoattore come scrittore e con il segno di un altro illustratore ligure di pregio che è Sergio Livotti e che partendo da quello scioglilingua che ben conosciamo in realtà va a costruire una poesia una filastrocca molto godibile ho tenuto in fondo le opere mie dovevo citarle ma non volevo mettere nel prima che diciamo che con continuità dal 2015 in forme varie e diverse c'è anche un'edizione curata da Andrea Cuarone al quale ho partecipato io così come molte altre persone in sala di Fiabe e di Grimm ma poi ci sono anche altri volumi sempre pensati e realizzati con l'idea di una letteratura per l'infanzia di oggi per l'oggi quindi in forma albo illustrato i dati velocissimi metà dei libri pubblicati in genovese per bambine e per bambini è arrivato negli ultimi vent'anni e mi sembra un'ottima cosa le criticità la condizione della lingua e il regresso dei parlanti è oggettiva la mancata valorizzazione della lingua presso le nuove generazioni cioè come facciamo a trasferirla io vi ho fatto tutto questo bel discorso ho due figli con i quali fatico a trasmettere l'amore per il genovese pur facendo le letture e le criticità sono anche quindi sporadico sostegno ma oggi l'assessore ci ha detto parole incoraggianti delle proposte culturali dedicate alle nuove generazioni ecco come come mettere a regime queste criticità si fanno almeno nella mia idea auspici ad esempio e penso alle letterature delle lingue regionali dello stato spagnolo dove sono riprese letterature non soltanto in catalano in galiziano ma anche in aragonese in cantabrico grazie a dei premi annuali finanziati in buona sostanza dal pubblico che consentono agli autori e agli editori di avere un'occasione una prova un momento in cui cimentarsi con dei testi e magari averne un riconoscimento una sostenibilità degli spazi dedicati e quindi momenti come questi una società di studi magari che se ne possa occupare ma anche momenti dedicati assai più vicini a quello che possono diciamo godere i bambini e i bambini penso a laboratori incontri con gli autori in questo segnalo e con questo veramente concludo che a vendersi in Val Borbera una piccola biblioteca di questo paese minuscolo stiamo collaborando per questa sgansia questo scaffale di libri per bambini e per bambini genovesi con l'idea di portare almeno d'estate un po' di momenti di lettura e di incontro lì in genovese per i genovesi e io con questo vi ringrazio bene grazie e adesso abbiamo l'ultima relazione prima della pausa caffè che è di Fabio Canessa che tutti conosciamo penso giornalista per il primo canale Telenord e adesso per Genova 24 diciamo è il giornalismo dialettale si può dire in questo momento ed è il principale redattore del settimanale telematico Usina che parla di notizie di tutto il mondo quindi non sono liguri ma in genovese allora lascio la parola a Fabio che è stato anche mio studente questo lo posso dire è vero è vero grazie professoressa buonasera a tutti voi allora giornalismo in genovese parto con ci sarà molto lo anticipo insomma purtroppo anche di cose diciamo personali di cui io sono il mio malgrado protagonista parto con questa considerazione io è stato detto faccio il giornalista adesso mi dedico al web lavoro per Genova 24 una testata online locale ho lavorato in televisione la cosa interessante che io ricordo sempre quando parlo della mia esperienza è che io ho iniziato a fare giornalismo diciamo così su larga scala proprio in genovese quindi ho fatto prima giornalismo in genovese e poi da lì è iniziata la mia esperienza in italiano già questa potrebbe essere una riflessione interessante su come il genovese diciamo così sia una cosa seria perché da lì poi è iniziato un percorso dunque la prima domanda è questa perché fare giornalismo in genovese di fatto non c'è così un'urgenza di fare giornalismo in genovese a differenza di quello che avviene con altre lingue pensiamo ad esempio ai prodotti che vengono realizzati per rivolgersi a una determinata comunità di parlanti ad esempio Rai News adesso fa un Tg giornaliero in lingua ucraina c'è chiaramente uno scopo una comunità a cui rivolgersi ora di fatto tutti quelli che parlano in genovese oggi parlano in italiano quindi non ce n'è uno stretto bisogno perché allora ci sono tantissime ragioni la prima che potrei dire è perché è molto divertente per me è così la prima cosa a cui ho pensato però è questa cioè normalizzare il genovese perché dico normalizzare perché siamo abituati è stato detto negli interventi prima del mio a un uso del genovese che è confinato in alcuni ambiti quello che è generalmente dialettale l'ambito familiare la comicità a volte la canzone però se ci pensate insomma un telegiornale in genovese è difficile da vedere pensate cosa potrebbe essere sentire una conferenza di astrofisica tutta in genovese uno dice ma nessuno di noi credo l'abbia mai sentito quindi creare un'occasione per rendere il più possibile normale non strano straniante un uso più esteso della lingua ad esempio in un ambito come quello dell'informazione in senso stretto poi parlando di giornalismo di cose che si pubblicano di periodici c'è un po' di tutto ma l'informazione è quella che noi vediamo e consumiamo tutti i giorni ovviamente una cosa del genere suscita curiosità quindi promuove la lingua può attirare nuovi parlanti sia tra chi ha una competenza diciamo parziale passiva il genovese magari lo sente lo ha sentito in famiglia non lo parla sia tra chi non aveva mai avuto un interesse fino a quel momento può insegnare qualcosa a chi il genovese già lo parla ad esempio una grafia ad esempio la grammatica per chi magari lo mastica però dice non lo parlo tanto bene è un'occasione in più si arriva anche attraverso l'informazione prodotti giornalistici a fissare uno standard di solito quello che differenzia una delle cose che differenziano le lingue dai dialetti nel senso comune è avere una grammatica qualcosa di scritto si dice così non si dice cos'ha ci si arriva anche in questo modo e poi un'altra cosa che io ritengo importante adattare quella che è la lingua della tradizione agli argomenti della società contemporanea cioè uscire un po' da quella logica per cui il genovese è come tanti altri tante altre lingue locali la lingua dei tempi andati delle cose che non ci sono più che non si usano più dell'agricoltura della tradizione della storia di tutte quelle cose che non fanno più parte del nostro mondo no ribaltiamo la visione rendiamola una lingua adatta al mondo di oggi quindi parliamo del mondo di oggi in quella lingua e cosa c'è di più attuale del racconto dell'attualità ovviamente ci sono dei rischi connessi a un'operazione di questo tipo il primissimo rischio credo sia quello di realizzare una parodia uno può pensare di fare un telegiornale in genovese che è pieno di parolacce battute belin cose così sarebbe sicuramente un prodotto apprezzato perché sarebbe divertente però non raggiungerebbe quello scopo perché si aggiungerebbe ai tanti prodotti che esistono già di quel tenore un'altra cosa che questi sono rischi che io ho sperimentato e in cui a volte sono caduto nella mia sperimentazione giornalistica in genovese l'autoreferenzialità cioè noi parliamo in lingua locale usiamo la lingua locale solo per riferirci a cose locali questa è una è la prima tentazione se io dico faccio un articolo in genovese di che cosa parlerò mai beh parliamo di quello che succede a Genova parliamo di quello che succede in Liguria parliamo di usi e costumi della Liguria del pesto della focaccia e così facendo però insomma non è che in italiano noi parliamo esclusivamente di ciò che avviene entro i confini nazionali è una lingua uno strumento di comunicazione con cui si parla di tutto maggiore ragione di cose che non sono pertinenti alla nostra stretta realtà quotidiana ho riassunto in complessi di inferiorità ciò che è un po' qualcosa di inevitabile con i mezzi a disposizione cioè l'idea a un certo punto che il giornalismo in genovese come tutte le cose che sono in italiano e in genovese poi finisca per essere secondario questa è una cosa un po' inevitabile cioè se uno ha un tot di mezzi a disposizione difficilmente il prodotto in genovese viene prima del prodotto in italiano difficilmente stanno sullo stesso livello solitamente il prodotto in genovese deriva da quello in italiano in linea di massima bisognerebbe cercare di affrancarsi un po' da questa mentalità ma ci arriviamo e poi diciamo tutto quello che ha una connotazione ideologica per carità benissimo usare il genovese per determinati valori politici sociali che non sono condivisi da altri l'importante è che non esista una connotazione unica e cioè che quella lingua almeno dal mio punto di vista finisca per essere associata esclusivamente a una certa un certo insieme di valori anche perché un piccolo piccolo inciso sappiamo bene che in Italia tendenzialmente la lingua locale viene associata quando va bene al provincialismo al localismo quando va male al secessionismo a istanze politiche molto marcate che da alcuni vengono viste come un rischio quindi cercare il più possibile di andare su qualcosa che possa poi diventare trasversale cioè ognuno usa il genovese un po' come vuole ma uno non pensa che il genovese porti proprio lì in principio fu la carta certamente io diciamo ho un po' un pochino di esperienza su televisione web però il giornalismo in genovese di fatto nasce nell'ottocento con dei periodici che sono rimasti storici pensiamo a Ubalilla Ustafì nella sua originaria versione Ucastiga Matti Usenese erano pubblicazioni che avvano tra la seconda metà dell'ottocento che spesso scadevano nello scandalistico a volte avevano anche un certo merito di denuncia sociale quindi erano tutti gli effetti dei giornali dei periodici in genovese fatti più o meno con quelli che erano i canoni del giornalismo poi ovviamente fissati più tardi in tempi recenti ho citato qua due esempi la pagina un articolo dalla pagina in genovese sul secolo XIX Parluceu con cui io tra l'altro ho qualche volta collaborato è tuttora presente in tutte le settimane esce questa pagina è Ustafì un'esperienza di cui parlerà Andrea Quarone che è stato il padre di entrambe le iniziative Ustafì insieme a Camilla Ponzano che peraltro è qua in sala ed è stata condirettrice esperienze che si affiancano ovviamente a tutto quello che è l'ambito del giornalismo online oggi tutto il nostro mondo online in particolare Parluceu perlomeno nella sua fase iniziale è stato anche un prodotto online ok giornalismo televisivo in Genovese negli anni 2000 su Primo Canale Gilberto Volpara conduce una trasmissione che si chiama Liguria Ancheur il titolo è interessante perché deriva da Liguria Today che è il format che Primo Canale dedica all'informazione alle finestre informative lungo nell'arco della giornata questa in realtà è una trasmissione serale il venerdì sera che si configura come la variante in Genovese di quel prodotto che in realtà è un po' diciamo un varietà dove non c'è soltanto informazione ma lì di fatto si istituzionalizza una presenza fissa in Genovese in una televisione locale e ovviamente è importante non ci crederete ma quello lì sono io ormai quasi dieci anni fa c'erano ancora i rapporti invertiti tra i capelli e la barba e questo chiedo alla regia se possiamo mettere il video ne sentiamo solo un minuto perché mi serve per dirvi qualcosa questo è il primo telegiornale in Genovese Buonasera a tutti e benvenuti alla prima edizione di TG in Genese i fatti più importanti della settimana con te in tal lingua della nostra regione all'esteta natra settimana di Paschumpo brutto tempo e non solo in Liguria scrivò reisego di natra l'uviu asena l'alerta all'esteta retia solo che vei problemi per l'egua e ho vento forte in una palassina con quattro famiglie all'esteta desbarassò la gas per la franga altri 40 scuridi in casa nervi per la mia già danesà orto nevo in tuspesine le sciurtie parmigna e guabulacchi allagamenti a rum ma carare in tuscana alle fine a bagno per le sondazioni di inciubi ok allora perché l'ho fatto vedere perché diciamo qua si vede anzitutto diciamo così almeno quello che era il mio tentativo di fare un telegiornale come va fatto un telegiornale quindi se notate c'è anche un tentativo di impostare la voce di non fare un prodotto con la cocina genovese da portuale ma qualcosa che in qualche modo rispecchiasse il modo di parlare in televisione ci sono io col nodo storto della cravatta che non so bene dove guardare sono veramente alle primissime armi però ci sono due cose importanti due errori mi piace sottolinearli perché poi dirò qualcosa anche insomma sulle criticità due errori perché da un certo punto dico eguabulacchi allora quando eguabulacchi è un'espressione insomma nota però il problema è che corrisponde più o meno a quello che in italiano sarebbe acqua catinelle ora in un telegiornale voi non vi aspettereste di sentire acqua catinelle è un errore diciamo così di registro linguistico cioè una cosa che si può dire nella lingua ma non si dice in un prodotto giornalistico poi c'è un altro errore che me ne sono accorto diciamo molto più tardi ho citato il nome di un corso d'acqua nello spezzino che è il parmignola e ho detto parmignola e lì perché ho detto così ma perché non sapevo come si chiamasse e quindi evidentemente avrei dovuto dire parmignola o qualcosa del genere non so se c'è qualcuno di quelle parti però questo rappresenta anche in qualche modo lo sforzo le difficoltà di un'operazione che non è proprio scontata faccio una breve cronaca di quello che è stato ci sono due link ma li saltiamo perché siamo un po' ridotti coi tempi si inizia con questo notiziario settimanale che va in onda tutte le settimane all'interno della trasmissione e poi si sperimenta un appuntamento quotidiano una notizia al giorno in genovese con un servizio al giorno nel telegiornale serale e quindi per la prima volta si arriva a un uso quotidiano del genovese in una televisione locale questo è uno degli articoli quindi in questo caso già abbiamo un giornalismo che è solo web in genovese insieme alla versione televisiva con tanto di traduzione italiana insomma la finalità didattica che dicevamo prima in questo modo è espletata ok andiamo avanti ok chiedo di far vedere anche questo sito è Usina ormai ne avrete sentito immagino parlare con il con seggio questo anno decidiamo di provare iniziare un'esperienza un sito di informazione solo in genovese ovviamente le risorse sono quelle che sono e quindi mi ci dedico io una volta alla settimana una volta alla settimana esce questo riassunto di nove notizie sono tre notizie dalla Liguria tre dall'Italia e tre dal mondo si spazia dal locale al globale con la traduzione italiana e con l'audio in questo modo uno può sentire la pronuncia devo citare Jean Maillard che ha parlato per primo oggi senza il suo supporto tecnico e tutto non solo tecnico non sarebbe stato possibile Erika De Ganello che si è occupata delle grafiche quindi insomma c'è un lavoro di squadra dietro importante si può andare indietro a vedere le edizioni precedenti ci sono alcune informazioni sul genovese chi siamo insomma poi ve lo potete andare a vedere Usina per chi non lo sapesse è l'orizzonte siamo andati a ripescare questo termine un po' letterario insomma che oggi non si usa più tanto perché ci piaceva il concetto di orizzonte sia come mezzo per orientarsi mezzo primario per orientarsi in mezzo al mare sia come metafora del guardare avanti verso il futuro quello che noi vogliamo in qualche modo trasmettere ok quale lingua usiamo per fare giornalismo in genovese almeno quale lingua uso io ma stiamo cercando ovviamente un po' tutti quelli che facciamo queste cose di seguire una linea comune genovese standard che è il genovese centrale diciamo che continua la tradizione ininterrotta fissata in letteratura e oggi in tutti i testi che abbiamo visto che non significa però genovese del centro in senso stretto cioè il genovese che si parla entro i confini del municipio uno perché un po' perché oggi prendere a riferimento quel genovese lì sarebbe un po' velleitario se non altro perché non è che sia in ottima salute poche persone lo parlano in quei confini lì ed è un genovese comunque per molti versi molto italianizzato e poi non c'è da vergognarsi se si usa qualche parola che ha fatto parte del genovese anche urbano fino a pochissimo tempo fa adesso magari si trova solo un po' in periferia in entroterra ad esempio da peu per dire poi e qualcuno direbbe no ma a Genova si dice poi vabbè ma da peu è una parola che ha fatto parte del genovese per secoli e secoli ancora oggi c'è un sacco di gente che lo dice vicinissimo a Genova fa parte e come dello standard genovese contemporaneo che non significa dialetto di transizione italo-genovese cioè significa mantenersi il più possibile comunque genuini quando c'è un'alternativa una parola che è entrata molto recentemente nel genovese dall'italiano perché per la crisi d'uso del genovese preferire magari quella più genuina è certamente una scelta di campo assolutamente sì non è detto che poi sia premiata ma è una scelta che si può fare mantenere come dicevo un registro linguistico medio che significa non andare a sconfinare nel letterario ma neanche nel triviale i punti di riferimento normativi sono quelli che ci stiamo insomma stiamo costruendo avete visto il sito del conseggio c'è un dizionario che viene ampliato sempre di più ci sono riferimenti grammaticali tenersi il più possibile a quello che viene fissato con la consapevolezza che un'operazione del genere è dico io fondativa cosa significa fondativa che di fatto stiamo un po' iniziando un'esperienza cioè il giornalismo in senso stretto in genovese non è qualcosa che possiamo andare a pescare negli annali ce lo stiamo un po' tra virgolette inventando normalmente non ci inventiamo la lingua però ci inventiamo un uso della lingua e quindi cosa significa significa che dobbiamo andare a risolvere una serie di problemi io qua faccio ho messo qualche esempio di usina preso diciamo un po' un po' a caso perché si trovano episodi simili praticamente ovunque il primo che ho incollato ne avevo già parlato in passato è la traduzione di rigassificatore se ne sta parlando tantissimo ma come si dice in genovese rigassificatore in quale dizionario genovese si trova non nel casaccia perché non era ovviamente all'epoca allora io ho detto in genovese gas si dice gas e allora facciamo modelliamo la parola su gas e quindi regassifica tu prostitute uno dice come si dice prostituta in genovese tanta gente direbbe bagascia però bagascia non è una parola cioè voi non sentireste mai in televisione in un articolo giornale non leggereste mai puttana scusate se però devo fare degli esempi ecco e quindi come si dice e quindi la scelta lì è stata quella di attenersi a quella che è la parola usata poi alla fine in tutte le lingue romanze mi corregga professoressa se sbaglio mi pare che insomma di solito noi facciamo questa valutazione qua se in francese in spagnolo in catalano in portoghese si usa quella parola lì che è una parola colta arrivata dal latino magari con qualche adattamento e noi ce la teniamo anche se ci suona un po' strana però crediamo sia la scelta migliore poi come si traducono i nomi dei posti stranieri io su Israele che devo usarla purtroppo tutte le settimane mi sono un po' cervellato Israele potremmo mantenerla così come si dice in italiano però ho cercato di adottare una forma intermedia Israele di fatto si tratta di un adattamento di pronuncia Gaza si trova nella Gerusalemme Deliverà mi pare come Gaza con due z per pronuncia breve che tra l'altro si attiene alla parola originale in arabo il Medio Oriente è diventato Levante De Meso i tunnel che sono come si dicono i tunnel mi sono tenuto la parola tunnel suicidio ci ho un po' pensato lo diciamo suicidio lo adattiamo come suicidio non lo so io ci ho messo la c con la cediglia che insomma è una scelta di stile che facciamo e via così sclerosi multipla irreversibile che ho tradotto come una perifrasi da quenus e per turnare ci sono diversi problemi perché ci troviamo con parole che non fanno parte del genovese usato negli ultimi decenni e quindi bisogna in qualche modo provare a a proporre delle soluzioni che magari saranno usate magari no e infatti io qua parlo di stabilizzazione naturale diciamo dei problemi linguistici quando quando spero in un futuro non troppo lontano il giornalismo in genovese sarà non soltanto insomma qualche episodio ma una serie di produzioni differenziate con autori diversi che a un certo punto probabilmente si spera convergeranno su un modello di stile un modello linguistico da adottare ci sono alcuni progetti ai quali stiamo lavorando usina ha una versione audio e quindi stiamo lavorando perché questa versione audio diventi un settimanale radio mi piacerebbe prima o poi che il settimanale online sul web diventasse un quotidiano ma capirete bene che per fare una cosa del genere serve un lavoro costante quotidiano io campo di altre cose come me e tanti altri però chissà che un giorno non si riesca veramente a farlo e a quel punto sarebbe veramente un salto di qualità contenuti originali ed esclusivi cioè non limitarsi a tradurre riproporre le notizie in italiano ma proporre dei contenuti nuovi che nascono in genovese e sono solo in genovese non hanno un corrispettivo e quindi poi questo dovrebbe far emergere uno stile giornalistico genovese con magari delle particolarità come succede in italiano dove sui giornali a volte si trovano delle tipologie linguistiche che non sono presenti altrove nel parlato è tutto grazie allora intanto ringrazio Fabio Canessa che ci ha offerto un esempio di genovese militante quindi anche con tanti problemi linguistici come devono essere risolti adesso è prevista una piccola pausa di un quarto d'ora pausa caffè poi riprenderemo direttamente con l'intervento video di Andrea Acquarone in quanto Paolo Besagno è assente e quindi avremo in totale quattro relazioni quindi vi prego poi di diciamo non prolungare troppo la pausa caffè ma di ritrovarci qui fra un quarto d'ora circa in modo che si possa poi fare una brevissima conclusione collettiva grazie a tutti perché ora iniziamo con la seconda parte del convegno grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti abbiamo inchiodato a questo ruolo intervento registrato di Andrea Acquarone che in questo momento non si trova in Italia quindi ha mandato un intervento registrato ma è un nome abbastanza famoso perché collabora col secolo XIX per la rubrica Parluceo e poi ha condiretto il settimanale Ustafì dal 2019 al 2021 interamente in lingua genovese ed è a tutti gli effetti un attivista linguistico anche abbastanza noto quindi direi che si può mandare il suo intervento eccolo buongiorno a tutti grazie di avermi invitato a questo incontro a cui purtroppo non posso partecipare di persona ma cercherò di non perdere tempo di sviluppare il tema che mi è stato assegnato ovvero quello dell'uso del genovese a fini giornalistici nello specifico prescritto io di questa cosa ho una certa esperienza perché sono circa nove anni che curo la pagina domenicale del secolo che si chiama Parluceo e per due anni due o tre anni ho diretto in qualche modo animato insieme a Camilla Ponzano l'iniziativa di un periodico di un mensile che poi non sei riuscito a tenere perfettamente questa cadenza che era lo Stafì una rivista di quattro pagine un formato molto grande come i giornali dell'Ottocento che è riuscita a vivere a produrre dodici numeri sostenendosi completamente con le sue risorse avendo quasi più di cento abbonati e arrivando a vendere un numero specialmente 500 copie nelle edicoli poi assestandosi circa sulle 200 copie vendute e che trattava di argomenti diciamo seri come la politica la società la cultura e ovviamente il tono può essere vario nel caso dello Stafì era un tono molto tagliente molto battagliero però era stata una scommessa che aveva dimostrato forse ancor più di quella del secolo su cui adesso torniamo come non ci sia in qualche modo limite se vi è fantasia e intelligenza e si riesce a individuare una nicchia nell'utilizzo della lingua genovese è vero che la difficoltà di comprensione soprattutto la la poca abitudine da parte dei lettori a trovarsi la lingua scritta perché anche la la maggior parte della comunità diciamo ligurofona quindi che sa parlare genovese o alcune altre varietà della lingua ligure non è non è normalmente abituata a leggere a leggere in questa lingua e però è anche vero che proprio grazie alla all'iniziativa del secolo dove siamo arrivati oramai oltre la cinquecentesima uscita ha in qualche modo abituato una parte quantomeno della comunità a confrontarsi con un testo scritto in genovese in parte della comunità che magari non pratica e non è neanche in grado di esprimersi in genovese ma che ha preso un certo un certo giro nel poter leggere degli articoli degli articoli in genovese io credo che mi pare evidente che entrambe le iniziative quella del secolo che è ancora in corso quella dello Stafiche è dovuta finire per impegni personali fondamentalmente miei e di Camilla Ponzano che ci hanno portato a dare priorità ad altre iniziative però avrebbe potuto continuare certamente se ci fosse stato un investimento come in altri casi in altre realtà regionali può arrivare anche sotto forma di un sostegno pubblico a iniziative del genere ebbene avrebbe potuto continuare perché non era un sasso lanciato nello stagno e un buco nell'acqua c'era una risposta di pubblico il secolo è ancora in corso entrambe le iniziative dimostrano che è possibile fare giornalismo in genovese è possibile parlare fondamentalmente di qualunque cosa si voglia sebbene è evidente che in un giornale generalista come il secolo la pagina nostra in genovese che viene dopo tutte le pagine come mi diceva un direttore di brutte notizie è più bello che racconti qualcosa di come dire di interessante di stimolante ma non per forza ecco di pesante però queste sono poi scelte come dire che si fanno nell'economia di un giornale entrambe queste iniziative hanno mostrato come si potesse sfattare un tabù che che vuole la lingua genovese relegata in questi casi la curiosità sulla parola sulla parola sconosciuta il professore che racconta la ricetta la filastrocca e queste altre cose qua che per loro diciamo natura aggiungono se mai ce ne fosse bisogno un'aura di come dire di secondarietà all'espressione genovese se uno fa tutto un giornale di cose serie interessanti contemporanee e poi ci aggiunge la ricetta e il proverbio in genovese è chiaro che il lettore associa a questa espressione una funzione secondaria folclorica e in qualche modo di minor livello mentre invece si è dimostrato che è possibile che è possibile fare altrimenti chissà cosa sarebbe successo se queste cose qua fossero state avviate 20-30 anni fa è possibile che avrebbero avuto un impatto ancora maggiore laddove la comunità dei parlanti era era più significativa ai numeri ad ogni modo sono testimonianza di una riuscita e possono aprire e possono aprire lo spazio ad altre iniziative che oramai diciamo possono farsi forte del del successo e in qualche modo della così della della possibilità che si è dimostrato poter esistere e vi ringrazio ancora e buon proseguimento bene ringraziamo anche a distanza Andrea Cuarone che contribuisce con Fabio Canessa anche appunto a tenere vivo un Ligure che parli anche delle cose attuali e future adesso vorrei introdurre Roberto Benso che ci parlerà della parlata di Carrosio il dottor Benso è appunto di Carrosio si è laureato all'università di Genova divenendo ufficiale degli alpini e dirigente d'azienda si occupa di storia locale di storia del territorio del genovesato e dell'oltregiogo ed è autore di numerosi saggi e articoli ha diretto il periodico in novitate edito dal centro studi di Novi Ligure di cui è presidente onorario quindi gli lascio volentieri di la parola tutto quello che ha detto la professoressa è vero al passato compresa il fatto che lei è stata un'allieva di Giulia Petraco Sicardi che io conoscevo perché ha realizzato tre monografie fondamentali a mio avviso sulla toponomastica novese sin ad età imperiale integrate forse lei la conosce anche dalla signora Caprini per la parte relativa al periodo Longobardo vabbè questo detto per parentesi comunque io sono qui perché vi devo parlare un po' del dialetto di Carrosio io vorrei parlarvi nel dialetto di Carrosio in realtà perché qui c'è stato un gruppo di specialisti e io non sono specialista di dialetti quindi tutto quello che potrei fare è dirvi qualcosa nel dialetto di Carrosio e alla fine ci arriverò io prenderò pochissimi minuti non più di dieci minuti perché è stato un convegno molto interessante ma anche molto intenso e la mia presenza qui è quella del villico del contado voi siete tutti genovesi io sono genovese ci mancherebbe altro o sono residente a Genova ci vivo ma sono nata a Carrosio uno dice ma ti chiami Benso e sei nata a Carrosio com'è possibile mi chiamo Benso ma i Benso sono anche in Liguria un illustre pittore del secolo d'oro dell'arte genovese si chiamava Giulio Benso e era nata a Pieve di Teco ci sono dei Benso soprattutto nella riviera occidentale poi ce ne sono nell'Oltregiogo ce ne sono nel Monferrato la mia famiglia è originaria di Chieri quindi dal punto di vista paterno sicuramente è schiettamente piemontese e io invece che devo dire quando nel 1625 i piemontesi sono arrivati a ferro freddo per entrare in Liguria io stavo con quelli che combattevano dall'altra parte se fossi stato allora in vita bene detto questo vi parlo un po' del dialetto di Carrosio perché è stata una sorpresa il dialetto di Carrosio non ha una forma scritta io avevo preparato alcuni testi registrati che avevano un po' poi circolato in ambito locale per testimoniare la presenza di questo dialetto che si sta estinguendo due ragazzi che sono qui presenti che sono molto bravi che si occupano di dialetto che sono già elusito hanno scoperto o forse lo sapevano già che è un dialetto di area Ligure molto vicino al genovese questo per noi è un fatto acquisito non è che ce lo siamo mai chiesti ma non so noi per dire comodino da notte diciamo Grindun per dire lucertola diciamo Grigua per dire fazzoletto diciamo Mandillo allora che dialetto è questo? chiaramente è un dialetto di area genovese forse più che Ligure poi ci sono altre caratteristiche del dialetto significative che le sappiamo solo noi perché noi siamo un piccolo paese io parlo parlo da Carrosiano che è cenato io ci sono vissuto solo i primi dieci anni della mia vita ma il primo linguaggio che ho imparato è stato il dialetto perché me lo parlava mia nonna ed è anche il linguaggio che conosco meglio perché l'italiano è una sovrimpressione indotta dalla scolarizzazione quindi il dialetto lo conosco meglio sono uno qui c'è il sindaco di Carrosio Valerio Cassano che è venuto a fare clac e lui lo parla anche il dialetto ma non è più un ragazzino purtroppo questo mi pare che accada dovunque si sta un po' appannando questo ricorso al vernacolo locale mi sembra noi lo parliamo ancora vecchietti in piazza ma lo parliamo allora ci sono delle caratteristiche nel dialetto di Carrosio che forse sono del genovese arcaico io non lo so ad esempio abbiamo nell'area centrale del cosiddetto oltre gioco anche qui mi è stata fatta un'obiezione mentre ero fuori da uno che non è di questa zona il quale mi diceva ma cosa significa oltre gioco beh è la visione che si ha dell'Appennino e dell'oltre Appennino da sud verso nord altrimenti sarebbe citra gioco quindi noi siamo la parte genovese al di là dell'Appennino sino a Novi Ligure su questo non ci sono dubbi direi sul piano storico ma anche degli esiti d'arte anche delle forme del paesaggio agrario che comunque non è affasce ma è approcce diciamo dalle nostre parti cioè appezzamenti coltivi dal punto di vista delle poche architetture nobili che ci sono quello è zona sicuramente genovese lo è anche se vogliamo per una ragione che è molto antica perché i genovesi sono arrivati nei territori che erano egemonizzati dai marchesi Obertenghi di Gavi nel 1121 famoso passo di Caffaro di Caschifellone Jugum Transierunt e poi sono scesi giù e hanno occupato voltaggio sono rimasti nel nostro territorio per 700 anni e quindi sono cose che non si possono dimenticare in un giorno si tendono ad appannare questi questi esiti storici ma nei documenti ancora del tardo 700 e dei primi dell'800 nei documenti d'archivio del nostro territorio Genova è indicata come la nostra antica madre e in questo senso lo è rimasta dal punto di vista culturale devo fare una notte magari non so un po' polemica ho la sensazione che noi non abbiamo dimenticato Genova ma che Genova ci abbia dimenticati va bene a parte questo adesso entro un po' nel merito del dialetto visto che devo parlarvi del dialetto io non sono uno specialista vi dico qualcosa ci sono delle forme dialettali a Carrosio che sono quasi di confine ad esempio lo dicevo prima con Stefano il gruppo PL quello di Planus che diventa Chan il gruppo BL quello di Blancus che diventa Gianco a Gavi si fermano se si prosegue verso nord diventano Bianco e Pian un'altra caratteristica io non so perché succede questo sia chiaro non sono non ho una competenza per poter dare una ragione di tutto questo sicuramente è quello che si fa in Genovese si dice in Genovese Chan e Gianco mentre invece se andiamo non so in una realtà che è poco distante che è stata anche qui Genovese per secoli però risente di un'altra cultura perché dicono Pian è bianco ed è Capriata d'Orba non solo questo ci sono c'è una caratteristica molto singolare a mio avviso adesso dico qualcosa così perché chiaramente non posso andare con ordine il gruppo Citi Tectum Factum Dictum a Bosio voi sapete dove è Bosio e tre chilometri da Carosio dicono Teicio Faccio Dicio a Carosio dicono Teito Feto Dito quindi vuol dire che l'area centrale della valle dell'Emme ha subito maggiormente ritengo l'influenza del genovese cittadino che non queste aree marginali o periferiche questo del detto fatto eccetera si ripete è molto singolare ad Arquata Arquata è dall'altra parte è sulla valle scrivia eppure dicono si sta perdendo io ho intervistato un po' un amico di Arquata dicono ancora oggi alcuni i vecchi mi ha detto che poi i vecchi sarebbero le della mia età Dicio Faccio Teicio però stanno orientandosi adesso verso la forma genovese Dito Feto eccetera perché come mi diceva Stefano il lessico tende a cambiare a volte anche rapidamente penso perché in questo caso è cambiato ci sono anche altre caratteristiche che secondo me sono derivate comunque dal genovese ma dalle mie parti dalle nostre parti si dice che sono derivate dal francese come per dire ragazzino si dice garsunetto ma garsunetto credo sia pari pari prelevato dal genovese non dal garsun no che sarebbe il ragazzino in francese ovviamente modificato dalla parlata dialettale così come la persona un po' stordita si dice lucco che si intenderebbe non il loco spagnolo ma che dovrebbe derivare da quello io non sono in grado di dire se tutto questo è vero chiaramente poi c'è tutto un lessico molto interessante che è degli attrezzi agricoli e dei lavori dei campi che si sta totalmente obliterando perché non ci sono più gli attrezzi e non si lavorano più i campi che a mio avviso è adesso non sto a specificare perché viene lungo il discorso che a mio avviso è totalmente genovese adesso per farvi sentire com'è il dialetto di Carrosio visto che sono stato onorato del titolo di poeta che non merito assolutamente perché questo è responsabilità di questi due ragazzi in quanto non era intenzione mia pubblicarli ho fatto anche resistenza perché era soltanto un divertimento locale da far sentire ai locali adesso è venuto fuori il libretto allora io ve ne dico una così sentite cos'è il dialetto di Carrosio poi ci salutiamo ci sono ancora due minuti di tempo grazie allora direi qui va da memoria non ho bisogno di leggere perché le sono memoria in quanto io le avevo memorizzate queste cose non erano scritte a vacchetta che sarebbe la vaccherella prima di notte quel vento cusciusciova usè incamminò a pe me cusciusciova per vende a maslozena una vacchetta e usè fermò a drumì su un tabuchetta all'ustaglia dei posti c'è ancora l'edificio non c'è più l'usteria l'ugio ben tastò la vacchetta e con potven ma per l'orba le ansima da montò e usù spuntova e poi va venga i mo dai barocchi all'angosco a prelaisea l'ogia le affine capaceva e quando che le arrivò a campo la piò due soddine mica e un po' di jambù e dopo pun tedesimo la mangiò da poi vedete il da poi che noi lo usiamo ancora mi pare che l'hai detto da poi e dopo un tedesimo da poi in una bottega di spessione la cattò dei ciaplett per la fietta e passando a roglie qua su vacchetta la portò a bestia a scu su per la gea da punsevra e ho cantò la cattò e tanto che che avevano la cattolica di spessione la cattolica parlava caro e faccia diva, che ci saliamo, ti metterà a beve per l'uomo, da un'altra cosa che mi ha fatto, e da un'altra cosa che mi ha fatto, e anche le donne che vanno a far più go, e anche le donne che vanno a far più go, e anche i miei campi in tabusina, e anche la neggia, e vanno via il culosso. D'inverno, su Cigua, l'oglia da bosso, e anche la ciappa in tastaletta, con la greppia curma e con i fitlin cutetta. Un poco seggia tutto, per lo resto, chi dice fitto, noi a dimmo presto, e ma a seia, con la lunga che ha spunta, la sarò sullo scorto, per fosunta. Ma che l'estet non si sa, ma è mancato che dopo la vermaia le rivò in cucina, per due ciapletà a figlia, e poi l'endetta fosse una dromia. Ma a donna che aveva domandò, i soldi, per qualcosa da cattò, l'ha risposto, nessuno in tastaletta, con la greppia curma e con i fitlin cutetta. È autentica questa, non il sogno, è autentica dire al mio bisnonno, perché? Mia madre quando l'ha sentita ha detto, ma questo l'ho nono Mattia, perché è partito con la vaccherella per venderla, a Maggio Zena, ed è ritornato indietro. Non ha mai spiegato il perché, ma l'ha riportata indietro. Va bene, io vi ringrazio, vi faccio i migliori auguri. Grazie anche a lei. Grazie moltissime per questo intervento. Adesso vorrei introdurre Enrico Granara, che è nato all'Atmara, vedo, ed è stato ambasciatore della Repubblica Italiana all'estero. Si occupa di tradurre in genovese testi vari e quindi oggi ci parlerà della sua esperienza e anche della possibilità di condividere questi testi, se ho capito bene. Prego. Grazie. Io ringrazio molto Conseggio per avermi dato questa opportunità di parlarvi di ciò che io definisco il mio hobby, quello della traduzione in genovese di testi di varie indole, principalmente dall'italiano o anche da qualche altra lingua che conosco. Devo dire innanzitutto che ho trovato gli interventi precedenti molto, molto stimolanti che mi confortano molto nel lavoro da fare sul piano dell'armonizzazione delle cose che scrivo lungo i canoni che il Conseggio nel suo approccio intelligentemente ecumenico propone a chi si avvicina al genovese scritto. Genovese scritto è un argomento su cui ero intervenuto soltanto una volta dieci anni fa a Roma in un convegno alla Dante Alighieri dedicato ai temi della vitalità delle lingue regionali italiane o dei dialetti. Ricordo di aver soprattutto parlato del rapporto storico tra Genova e Levante e Sud Mediterraneo e dei vocaboli arabi nella lingua genovese. Fu una trattazione direi empirica non sistematica da praticante insomma da practitioner come in tutte le cose che ho sempre fatto. Sta di fatto che in questi ultimi dieci anni sono andato avanti con le mie traduzioni cercando sempre di migliorare un pochino la qualità e di evolvere sul piano della grafia zeneise terreno su cui come sappiamo sono inevitabili le incertezze le lacune senza però arrivare a considerare questo fattore come qualcosa di paralizzante cioè dotandomi invece di un certo coraggio direi quasi un senso di sfida cercando di volta in volta di capire cosa valesse più la pena tradurre sempre per lo mio divertimento di indole chiamiamo enigmistico ma anche a benefici di quelli che io chiamo i miei 25 pazienti lettori il mio dunque è un hobby una demua dunque un puro dilettantismo ma con un minimo di funzione sociale che vedo riconfortata stasera dagli altri interventi e cioè dimostrare la vitalità del genovese scritto in rapporto a una certa varietà di temi storici e della contemporaneità e dando una dimostrazione nel mio piccolo sulla scia di quella offerta con grande maestria da Fiorenzo Toso col suo a bocca dolù che ha segnato lo standard alto del genovese scritto contemporaneo secondo me su questa base la mia proposta agli amici del conseggio e che forse il contributo migliore che io possa dare al lavoro comune è quello di rendere in genovese gli scritti altrui sui temi del mare della vita in mare del rapporto col mare di ciò che io vedo come tratto storico è ineluttabile del destino umano tutto questo nell'esperienza storica genovese ligure italiana e oltre per richiamare l'esperienza europea occidentale ma anche quella orientale non solo nella storia ma anche nel presente scritti che non devono superare una certa lunghezza possibilmente brevi incisivi di taglio giornalistico cercando di non anaspare nella sintassi cercando soprattutto di catturare lo spirito dei nostri antichi del loro coraggio nelle avversità forti della loro fede nelle protezioni ultraterrene anche se talvolta espresse coa preghia d'umaina a questo proposito ho finito di tradurre un capitolo di questo libro permesso che di Marco Ferrari i sogni di Tristan molti di voi lo conosceranno perché era uscito quasi trent'anni fa e parlava della vicenda di due naufraghi di Camogli all'isola di Tristan da Cugna io ho stampato solo tre copie che posso lasciare qui a disposizione di tutti ripromettendomi di farvi avere a chi fosse interessato il testo via postelettronica dicevo appunto che questa appunto per dire che nelle mie traduzioni cerco ovvero possibile di far emergere una certa ironia si era parlato negli interventi precedenti l'importanza dell'ironia anche come arma per smontare le argomentazioni che puntano a ridimensionare l'importanza dell'esperienza del genovese parlato e scritto oggi e quindi un introdurre negli scritti un non prendersi troppo sul serio un senso della freddura d'altronde sappiamo che questa è anche una caratteristica delle lingue dialettizzate se ne parlò la Dante Alighieri dieci anni fa che sono molto più sensibili molto più vicini alla sensibilità e allo spirito popolare al cuore delle persone rispetto all'italiano standard e in questo costituiscono una risorsa inesauribile di di buonsenso un buonsenso espresso con arguzia e il genovese in questo ha avuto e ha ancora molto da dire secondo me si pensi a Marzari che era stato citato poco fa per tornare a me sono solito dire che la scintilla che mi ha ispirato a coltivare questo filone è stata la lettura del periplo di Baldassarre il lungo racconto dedicato dallo scrittore franco-libanese Amin Ma'alouf dedicato a un genovese levantino del 600 discendente degli embriaci e al suo itinerario di avvicinamento a Genova la patria dei suoi avi ecco per me è stato un vero manifesto personale dato che mi identifico molto in questo personaggio un vero ligure d'oltremare quale io sono mi piace infatti dire che per genealogia sono genovese con un cognome citato addirittura tra le 19 famiglie vicecomitali del XII secolo e con un ramo il mio che nel 600 si era gradualmente trapiantato nel finale e quindi un secolo fa a Oneglia per poi vivere una quarantennale esperienza sulle sponde africane del Mar Rosso per ragione di shipping nono e padre spedizionieri agenti mariti tipico mestiere ligure legato al mare da bambino da bambino in Eritrea avevo un maestro elementare di arma di Taja un compagno di banco genovese di madre per non parlare della mia prima fiamma che aveva la madre di Camogli da cui ho imparato a pulire bene il pesce a intrecciare le reti da pesca e trovo questa per spiegarvi il senso di questa immagine che è un particolare di una stampa del terzo decennio del 600 l'ho trovata molto simbolica sul piano diciamo della memoria familiare perché c'è la lanterna di Genova che è al centro della Liguria San Pier d'Arena la terra degli avi e la navigazione verso Ponente con i leudi e le tartane che ho scoperto essere la principale occupazione di ben tre generazioni dei miei antenati Genova e la lanterna sono al centro e io mi sono spostato all'estremo Levante per ragioni di famiglia insomma questa è dunque la chiave la molla del mio hobby legata a una personalissima ricerca delle radici che mira a far rivivere memorie in buona parte perdute date queste premesse con una vita trascorsa lontana da Genova e dalla Liguria con un'esposizione alla parlata genovese variante ponentina risalente all'infanzia prima adolescenza in un ambito esclusivamente familiare il mio approccio alla lingua genovese doveva necessariamente passare per lo scritto e a trovare una sua forza una ragione d'essere su questo piano qui essendo per me sporadiche le occasioni per praticare la lingua sul piano colloquiale qualcuno potrebbe poi osservare che per il fatto di essermi trasferito tre anni fa a vivere nel golfo della Spezia questa mia impresa di riavvicinamento alla cocina genovese doc IGT è ancora più disperata pazienza il destino ha voluto che io avessi un accento levantino per certe mie inflessioni simili anche al sardo e me lo tengo per ultimo ma non meno importante mi piace ricordare che dallo scorso mese di marzo in avanti su sollecitazione di un paio di membri della confraternita di San Giovanni Battista dei genovesi in Trastevere a Roma quindi mi sono messo a tradurre in Zenese il brano evangelico del giorno non so se ne farò una raccolta anche perché mi risulta che molto tempo fa ne era già stata stampata una e qui se qualcuno ha interesse a sfogliarlo lascio alla nostra moderatrice il mio testo di di traduzioni e su cui vorrei solo dire una cosa l'ideale sarebbe che un giorno questa raccolta di scritti e altre che potrebbero seguire possano fare il loro bagno nel bisagno diciamo così nel bisagno contemporaneo per per venire armonizzati nella grafia del conseggio diciamo che allora che tutto è nelle mani di Jean Maillard a questo punto e alle sue sperimentazioni con l'intelligenza artificiale abbiamo fiducia in questo in questo futuro vi ringrazio molto per l'attenzione grazie grazie Enrico Granara che ci ha ricordato anche i problemi del dialetto scritto che spesso è più difficile del parlato e adesso chiudiamo in bellezza con Bruna Pedemonte che viene dalla Valpolcevera e poetessa e attrice in genovese cura una rubrica per il secolo Spegetti Bleu e è attiva anche presso il teatro dell'Ortica con un laboratorio teatrale in genovese e il titolo del suo intervento scusate che l'ho perso è Avuge au Centro allora io leggerò semplicemente delle poesie e mi metterò in piedi perché leggo meglio allora il primo autore che ho scelto è Edoardo Firpo e vado direttamente così stringiamo Santa Antonin serviva questa gente senza cianin 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 che non si deixano le parti di lascia che dormano come sono morti con sacrificio di sguventura che non si accorza anche se tenta di se peli su tar menta quando arrivi a quella mattina Santa Antonina su riastagene ti cantie l'innu di partigene la traduco per il non Sant'Antonino sopra Staglino suona piano 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 che non si sveglino i partigiani lascia che dormano come sono morti col sacrificio della gioventù che non si accorgano che già si tenta di sepellirli nella spazzatura quando arriverà quella mattina Sant'Antonino sopra Staglino canterai l'inno dei partigiani sempre di Firpo reciterò ciao martin pescò ciao martin pescò cu porte lua de beleguenette quande cu becco a fiop paco fracasse in speggio de cristallo ma u canto malinconico du gallo in meso a net e pa in crio cu se perde in meso o ma se tu possa men chantant a sponda vigina o nonno ai giorni sem sas quea e o canto que sentivo in lontananza za fim da lua o mestrenze che che l'aveva dito che piccino che tempo gira e chi a dibittà dell'avenir a caravella che batteva o ma sperava devette un'altra sponda ma quinto tempo navega ogni stagione l'enunda verso il silenzio della riva morta e mi che intanto navego mentre che l'enunda franze chiamo martin pescò che porta lua delle belle guenette quando il becco affiò pacco fracasse in spegio del cristallo la traduco chiamo il martin pescatore che porti l'ora delle belle acque chiare quando col becco affilato sembra infrangere uno specchio di cristallo ma il canto malinconico del gallo in mezzo alla notte sembra un grido che si perde in mezzo al mare sento portarmi sulla lontana sponda vicino al nonno ai giorni senza scuola e il canto che sentivo in lontananza già fin dall'ora mi stringeva al cuore chi gliel'aveva detto al cuore piccolo che il tempo vola chi di dubitare dell'avvenire la caravella che batteva al mare sperava di vedere un'altra sponda ma chi naviga nel tempo ma per chi navega nel tempo ogni stagione è un'onda verso il silenzio di una riva morta e io che intanto navigo mentre frange l'onda chiamo il martin pescatore che porti l'ora delle belle acque chiare quando col becco affilato pare che infranga uno specchio di cristallo ora leggerò una poesia di Plinio Guidoni che è stato anche citato in precedenza astissa astissa caccioca entoveu pietusa a esser do silenzio as fiura larcata de gesso cu pallidureza de ingeo e o grigio desteso enxu o spedio squisce o velame de ná ca venha da longe e se desfa l'antiga parola in doá barlim ed o marmo stralige se ha l'agonia denti sun e uscinta arresta intus chi ubrivi dunuelo denti sun la goccia la goccia che risuona nel vuoto pietosa alla sete del silenzio sfiora l'arcata di gesso col palido rosa d'un volo e il grigio disteso sullo specchio scurisce il velame d'un'ala che viene da lontano e si disfa l'antica parola indorata barlume dal marmo traluce gelata l'agonia d'un tizzone e sparisce rimane nel buio il brivido novello di un suono ora a Fiorenzo no Fiorenzo Toso mi emozionerò perché vabbè eravamo amici non hanno titolo le poesie di Fiorenzo da un porto all'altro o desideio o lincia vei estramesuè buon vento a un viaggio e mi do mundo perso un deminaio con ci me perdo con ci me gattrovo di quello che sono fatto mi invegendo di tutto quello che vuoi riconosce feta nasena natra le caspeta di se fondanti sogni e le memoria lascia che a lontananza ha nessun ingheggio indosso come craccia di sarmaggio non è destino non è se il ritorno solo ma veggia di chi se descrive da un porto all'altro il desiderio gonfia vele smisurate buon vento per il viaggio ed io perso nel mondo me ne incanto più mi ci perdo e più mi ci ritrovo mi esalto per ciò di cui sono fatto e tutto ciò che vorrei conoscere scusate che è tutto ciò che vorrei conoscere fatto a una Genova un'altra aspetta di essere fondata nei sogni e nelle memorie lascia che la lontananza ci si attacchi addosso come crosta salmastra non c'è meta non ci sarà ritorno solo la meraviglia di scoprirsi questa è una delle sue poesie diciamo giovanili che lui bollava come ingenue ma secondo me questa è veramente meravigliosa io leggo alla ocu del pollo che si dice a me savoge alla mu satisfetto e geno odù della terra e pan del bosco che sa di certe te privati serviti vivi se comparti me e tu chium che esate e strigela in silenzio l'acqua ha il colore delle parole che si dicono sottovoce soddisfatto l'amore e c'è un odore di terra e di muschio che sa di certi tuoi reconditi segreti due abitudini condividiamo io e il fiume accarezzarti i fianchi e scorrere in silenzio ora leggerò dei versi di Alessandro Guasoni se mi permetti che sono inediti sono versi e sono dedicati al tempo come l'ancuno del punto che non teni nessun spazio nessun tempo chiuso il cerchio dell'essere si è dilattato fuori di misura e lo spazio vuoto è il tempo stesso che per essere senza fine è come se mai fosse iniziato al principio di tutto nella tua testa forse occupava lo spazio di una noce o meno ancora di un punto che non occupa alcun spazio nello spazio alcun tempo sempre sono dei versi numerati sempre di Alessandro Guasoni scurì del tempo e spazio in punto solo chi obbedisce all'ese da nascione da crescenza di scasimento e morte con l'estetto con l'è e con l'è penso a una stanza senza mobili e gianca e senza miagia a qualità stretta d'ese laura come riesce in anche in te lue già o te respio scorrere di tempo e spazio un punto solo che non ubidisce la legge della nascita della crescita decadenza e morte che è stato che è e che sarà penso ad una stanza vuota senza mobili e bianca e senza muri la qualità stratta d'essere laura come vorrei sentire ancora nell'orecchio il tuo respiro e adesso il verso numero 16 sempre di Alessandro Guasoni dopo cristallo cristallo pregiune resegundan i tuoi atti sempre pegi dopo la fine il tuo essere non si perde ma si scioglie nella vita nella coscienza del mondo e degli anni in atto di memoria vivono ancora pezzi di parole e opere benché tu sia chiuso concluso in un solo tempo e spazio finito e che non sarà mai più fermo cristallo prigioniero si ripetono i tuoi gesti sempre uguali e ora una poetessa che conosco molto bene sono io allora una la prendo dal libro che ho pubblicato ed è un ricordo di infanzia mi viene in che se si 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 Ma una magia da un zego a tenepigia, Cusci potente da brancaneo che suspeggi imprigioneda na maveggia, Qua bocca aperta sta cinque figi. All'è na luge che o tempo la fermò, O leo respiro de una zena de gembrina, Cane regala un tramonto insanguinò, Cure luge in telaia cristallina. La traduco. Si gioca ai cantoni nel porticato che è spazzato dalla tramontana, Già che per terra, nuvole di fiato, danno fastidio ai maglioni di lana. Tutto questo freddo ci fa i pomelli alle gote che sembrano dipinti da un mastro ubriaco, Ci fanno sembrare bambole e marionette, e di lì a poco prendono fuoco. Si sa, quando è nel gioco un bambino non sente niente, E' inzuppato nel mondo delle fiabe dove son vere le cose finte, Ma una magia dal gioco ci distrae, Così potente da agghermirci il cuore. Sospesi, imprigionati da una meraviglia, Con la bocca aperta stanno cinque bambini. E' una luce che ha fermato il tempo, E' il respiro di una genova dicembrina, Che ci regala un tramonto insanguinato, Che rispende nell'aria cristallina. Questa è inedita. Donde la mia finì la mostra giù, Forse, in te ciega dieci, Cento ar suio sfregui giù, E' la secca in sciscaggi. Sutta un gerutte da ottanto scavà, O a scruscì sutta i denti come inga e sa. Donde va a finì la mostra giù, O der lengua e oscinta come una perla ante la giù. Dove andrà a finire l'amore sprecato? Forse nelle pieghe degli occhi, Pianto, riarso, sbriciolato. Alga secca sugli scolli, Sotto unghie rotte dal tanto scavare, O scricchiolare sotto i denti, Come sabbia e sale. Dove va a finire l'amore sprecato? Si scioglie e sparisce, Come una perla nell'aceto. E ora alle donne. E donne de pelle moa, Sun belle come osso, Fan veni in queue a terra, O pan, Amoè. E donne de pelle ciea, Sun legge come ottole, E odouan de succo de confituia. E donne risse, Sun nivei e de monge ariguelé, Quelle de caveli dritti sea, Casquigiai die. Siamo belle come o se, Come o monte, Come la me, Come o gran, Come o feng, Come l'Egua d'Uria, Come fu e dove siamo. Semmo come o macio e fondo, E in tra i miei atre nasce un mondo. Traduco per i non genomeni. Alle donne. Le donne di pelle mora Sono belle come il sole, Fan venire in mente la terra, Il pane, la madre. Le donne di pelle chiara Sono leggere come il vero di tulle, E profumano di zucchero di confetto. Le donne ricce sono nuvole, Di marosi avvoltolati, Quelle di cappelli dritti seta, Che scivola le dita. Siamo belle come il cielo, Come il monte, Come il miele, Come il grano, Come il fieno, Come l'acqua del roscello, Come le favole del nonno. Siamo come il mare più profondo, Dentro di noi nasce il mondo. Benissimo, con queste voci dialettali si chiude. Questa è stata l'ultima conferenza del convegno. Chiedo agli organizzatori, In particolare a Stefano Lusito e a Giammaia, Se vogliono dire qualche parola conclusiva. O Anselmo Roveda, ovviamente. E quindi lascio a loro il congedo. Beh, innanzitutto grazie a Rosa Ronzitti Per averci accompagnato pazientemente. Grazie a tutti e a tutti. Siamo stati lunghissimi, Abbiamo tantissime cose nella testa. Lasciamo uno spazio, però, alle domande, alle riflessioni, Se qualcuno avesse delle domande. Stefano... La dico perché poi Stefano è quello che facciamo rispondere in questi casi. Se no possiamo tenerci questa ricchezza di discussione e il Consiglio. E lascio l'ultima parola a Giammaia per raccontarci come contattarci, Come raggiungere il Consiglio. E vi aspettiamo. Insomma, ci vediamo in tanti altri luoghi possibili, anche fisici. Prego, Giamma. Ecco, grazie mille per essere resistiti fino ad ora. È stato un convegno molto intenso, molto lungo. Ci impegneremo a pubblicare la registrazione. Ecco, quindi nel caso aveste perso qualche intervento, Vogliate sentirlo di nuovo, sarà disponibile online. Vi invitiamo a visitare il sito dell'associazione, Che è qui presente nella diapositiva, Dove trovate l'organigramma dell'associazione, Le nostre attività e anche gli eventi futuri. Ecco, quindi speriamo che questa sia la prima in una lunga serie di conferenze, Di convegni e di tante altre attività per valorizzare Il genovese e le altre parete aliguri. Grazie. Scusate, voglio dire anch'io una parola. Visto che questa realtà urbana genovese non è molto favorevole al dialetto, Quindi è diversa da altre realtà che magari mi trovo a frequentare, Come quella di Napoli o Palermo. Penso che già le persone che sono qui stiano facendo molto. Lo scopo non è tanto quello di tornare a parlare un genovese, Scopo che io personalmente vedo utopistico, Però di mantenere vivo quello che c'è e il più possibile farlo conoscere ai giovani. Perché spesso i giovani soffrono di una propaganda forse nata che inizia all'asilo, In cui le uniche due realtà esistenti sono la lingua nazionale e l'inglese. E un'esterofilia da paese coloniale che ormai è diffusa a tutti i livelli. Penso che la presenza del nonno o della persona che, come dire, Gli fa capire di vivere in un territorio con delle tradizioni sia fondamentale. Questa realtà nel meridione è ancora abbastanza viva. Perché non c'è stato lo stigma che nell'Italia nord-occidentale ha colpito i dialetti. Cioè l'atteggiamento sfavorevole a cui anche inconsciamente moltissime persone hanno aderito. Quindi ai figli non si doveva più parlare in dialetto. C'è stata una cesura molto netta negli anni 50-60. Mentre in una parte d'Italia questo, per fortuna, non è avvenuto e un po' anche nel nord-est non è avvenuto. Quindi io mi auguro, non solo cercheremo di tenere vive con queste iniziative le presenze delle voci Liguri, ma mi auguro anche che l'atteggiamento del comune sia propositivo. Cioè che anche con pochissimi investimenti si tengano vive iniziative, per esempio, di lingua parlata sul territorio o anche di piccoli eventi o recitazioni che magari possano coinvolgere anche un pubblico, soprattutto giovanile. Perché il problema è quello, cioè chi è qui è già convinto della bontà di quello che sta sostenendo. La scommessa è un po' allargarlo ad altri. Quello che io noto è che se agli studenti si fanno conoscere le cose, molto raramente sono disinteressati. Quello che è più difficile, uno, è farglielo conoscere, due, perseverare. Perché ovviamente il seme piantato deve essere innaffiato periodicamente, non bastano iniziative sporadiche. E quindi io mi auguro effettivamente che il comune di Genova e poi eventualmente anche la regione mettano in atto magari delle iniziative anche di visibilità o di cartellonistica o di eventi che però facciano un po' parte poi della loro routine di comunicazione, diciamo sociopolitica sul territorio. Non c'è nulla di male in questo, anzi, perché è un po' strano in sostanza che l'unica voce che non si sente più a Genova sia quella del genovese. Perché ormai si sentono tutte le lingue e in parte ci sta perché è la vocazione di una città portuale, però si deve anche sentire la lingua degli autoctoni. E quindi questo secondo me, da parte delle istituzioni, potrebbe tradursi in una qualche forma di impegno. Quindi ringrazio tutti e buona serata, buon proseguimento. Ecco, ringraziamo ancora la professoressa Ronzitti. Vi ricordo che abbiamo a fondo sala una postazione interattiva per ammirare il meraviglioso lavoro dell'antologia della letteratura ligure di Alessandro Guasoni e anche un tavolo con copie anche acquistabili della nuova collana curata da alcun seggio in collaborazione con l'editrice Zona. Ecco, là in fondo. Quindi grazie e buona serata. Grazie. 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 Grazie.